Lunga discesa fino al traguardo di Bagnard de Luchon, tappa che misura 184 km. Un minuto il gruppo con... E queste sono le prime immagini che arrivano in diretta dal Tour de France dalla tappa numero 8 da Pau a Bagnard de Luchon, 184 km, è il tappone Pirenaico, la seconda giornata che stiamo vivendo sui Pirenei, la tappa del Tourmalet e siamo proprio sulla gigante dei Pirenei con la coppia all'atto comando che abbiamo appena vista inquadrata, quella formata da Rafa Umaika che tra l'altro è stato l'ultimo a transitare per primo sul Tourmalet nel 2014 nella tappa vinta a Cotare, con lui c'è Thibaut Pinot che era andato clamorosamente in crisi ieri sulla salita verso il Colna Spen, ma questi due stanno per essere raggiunti da Tony Martin della Etics Quickstep. Un minuto e 50 è il vantaggio della coppia all'accomando, presto sarà una terzetta nei confronti del gruppo con tutti gli uomini di classifica, forti adesso di una trentina di unità e non ci sono più in questo gruppo. Greg Van Avermaet, la maglia gialla che anche ieri era andato all'attacco e non c'è più purtroppo neppure Vincenzo Nibali. Eccolo il momento in cui Tony Martin va a riprendere Maika e Pinot. Buon pomeriggio anche da parte mia, stiamo seguendo in diretta la scalata del Col du Tourmalet, la salita, la montagna più epica, più storica, più... ...da me e con altre persone. ...mancano sei chilometri al Gran Premio della Montagna Orcategory del Tourmalet Souvenir Jacques Godet. Tre corridori al comando, si è appena formato questo terzetto con l'arrivo di Tony Martin che sta pedalando veramente molto bene in un terreno che non è propriamente il suo, ma sappiamo e conosciamo la cilindrata e la capacità e il talento di questo formidabile atleta tedesco che si è riportato su Maika e Pinot, questo è il gruppo dove la situazione l'ha presa in mano. Decisamente il Team Sky, già staccato Greg Van Avermaet, viene segnalato in leggera difficoltà anche Vincenzo Nibali. All'ultimo rilevamento cronometrico erano 25 i secondi di ritardo di Vincenzo Nibali dal gruppo tirato. Adesso dagli uomini della Team Sky abbiamo visto anche Geraint Thomas, sfortunatissimo perché è caduto addirittura nel tratto di trasferimento dalla via del villaggio di partenza per arrivare al chilometro zero. Con lui terminato a terra anche Villermot, per fortuna nessuna conseguenza né per il britannico, per il gallese della Team Sky e per il francese della Agie Deserre. Mancano 103 chilometri alla conclusione di questa tappa che complessivamente ne misura 184. Il Tourmalet affrontato dal versante occidentale quest'oggi, quello che parte da Luz Saint-Sauveur. È stato fatto per la prima volta, il Tourmalet almeno se ne parla, nel 1675 quando Madame de Montelon lo passò su una portantina, c'era stata infatti una frana e fare il passo da Luz a Bager non era l'unico modo per andare a passare le acque. Poi le prime carrozze transitarono invece sulla Tourmalet nel 1788. Una delle salite mitiche e storiche della Tour de France, il Tourmalet, scoperto nel 1910, scoperto ciclisticamente nel 1910, l'anno delle prime vere grandi montagne al Tour. Sono già 81 i passaggi che ci sono stati sul Tourmalet nella storia del Tour de France mentre qui in casa Sky perde un elemento, Basile Kirienka che è stato impegnato nella prima parte dove, come è già stato ricordato, si è corso a 51 di media la prima ora di corsa, tanti tentativi di fuga, tanti tentativi di andare all'attacco e di cercare di vivere questa giornata. cercando proprio di scalare in solitudine questi importanti colli. 184 i chilometri in programma in questa giornata da Poe a Bagnère de Luchon con quattro gran premi della montagna. Quello a cui stiamo assistendo è appunto il col du Tourmalet, 2115 metri. In rapida successione poi l'Orchette d'Anzisan, Val Louron e il col de Peresud prima di lanciarsi in discesa verso Bagnère de Luchon dove sarà appunto il traguardo di questa ottava tabla. Per tre volte nella storia del Tour de France si è fatta la doppia scesa del Tourmalet nella stessa edizione del Tour, nel 70 e nel 74, sempre vittoria finale di Eddie Merckx e nel 2010 l'anno del centenario del Tour vinto quell'anno da Alberto Contador che oggi dovrà, come ha fatto ieri, cercare soprattutto di difendersi. Il ritmo imposto dalla Team Sky potrebbe mettere in difficoltà già qualcuno in questa prima salita, Silvio. È un ritmo comunque regolare, è un ritmo comunque regolare, si stanno staccando corridori, pensiamo a Greg Van Avermant, grande protagonista in questi giorni, anche ieri tantissima fatica. Vincenzo Nibali segnalato in leggera difficoltà ma c'è tempo per rientrare, insomma, quindi c'è la possibilità di rientrare in gioco. Il Team Sky che, insomma, come era prevedibile, prende in mano la situazione. Michel Landa che doveva essere l'ultimo uomo lo vediamo già invece lavorare in prima persona e qui le difficoltà di Vincenzo Nibali che però, vedete, non è lontano dal gruppo dei migliori condotto appunto dal Team Sky. Con Vincenzo Nibali abbiamo visto anche Julien Alaphilippe, eccolo lì, con l'indorsale 182, quindi il francese particolarmente brillante, il giovane francese particolarmente brillante in questa prima parte di tour. Ieri ha perso la maglia bianca a favore di Adam Yates, oggi in difficoltà. Numero rosso per Nibali che ieri è stato premiato con il numero rosso della combattività e dunque oggi lo porta in gara. C'è Luis Leon Sanchez insieme a Nibali che però lentamente, andando su con un ritmo molto regolare, sta cercando di riportarsi sulla coda del gruppo dei migliori. Veniva segnalato un gruppo forte di una trentina di... Il numero 800, 98. La reazione che sta avendo Thibaut Pinot dopo una giornata difficile, quella di ieri dove sulla spenne è andato improvvisamente in crisi, tra l'altro improvvisamente, improvvisa ed inaspettata questa crisi, perché era stato proprio Thibaut Pinot a far lavorare la squadra all'inizio della spenne, quindi questo faceva presagire anche alla possibilità che Thibaut Pinot potesse ieri andare all'attacco anche per cercare di avvantaggiarsi in vista della successiva discesa. Oggi si sta riprendendo molto bene. Le prime interviste flash che arrivano dalla Tour de France, anzi questi sono i pronostici per la giornata di oggi al Tour. HC category climb, the Tour Mali, of course, the giants of the Tour de France. I think it's going to be a real battle between the GC contenders, although I think a breakaway group will manage to make it to the finish free from the big guns. I think Valverde and Kitana and Dora is going to be a good effort, but I'm going to pick Romain Bardet. Quintana può essere sicuramente una buona soluzione, ma io farei molta attenzione anche a Romain Bardet. Quinto Pinot is not doing well, looks like it's not really good, that's only a favorite that's kind of not really riding well, but it's bringing everybody into the Pyrenees and the Alps together, which is good. It'll be a good race. Secondo Greg Lemon, Valverde e Kitana andranno davvero all'attacco nella tappa di Andorra. Questa invece è Jenna Corrado, che è una giornalista della NBC. Secondo lei il favorito di oggi è Daniel Martin, semplicemente perché è molto motivato, ha già vinto al Tour de France, non in questo Tour de France chiaramente, l'anno scorso si è piazzato per due volte il secondo e dunque credo che possa essere davvero l'uomo giusto per la tappa di oggi. Mentre stiamo vedendo in quadrato Greg Van Avermaet, mattatore anche ieri della tappa con arrivo a Lac de Payol, è andato all'attacco e ha incrementato ancora il suo vantaggio in classifica generale, classifica generale leader della classifica generale che oggi, Maglia Gialla, che oggi rischia concretamente di perdere, visto le difficoltà che sta vivendo sul Tourmalet, anche se lui non è lontanissimo, perché il Team Sky sta facendo un'andatura, ma è un'andatura comunque regolare. Ha un vantaggio su Adam Yates di 5 minuti e 50, a 5 minuti e 51 c'è Julienne Alaphilippe, anche lui abbiamo visto. In un momento particolarmente difficile in questa scalata verso il Tourmalet, mancano poco più di 4 chilometri per la testa della corsa, per il terzetto formato da Maica, da Pino e da Tony Martin, per arrivare al Gran Premio della Montagna. Una salita lunghissima, perché sono 19 chilometri con una pendenza media del 7,4% in cima, c'è anche il cosiddetto souvenir Jacques Godet, che è stato uno dei direttori storici del Tour de France, così come Henri de Grange, al quale si deve proprio l'inserimento, prima dei Pirenei nel 1910, poi delle Alpi l'anno successivo nel 1911, nel percorso della Tour de France. Buon pomeriggio, salvo sono Pirenei. Tourmalet, che solo una volta nella storia del Tour, non è stato fatto, non è stato percorso, per colpa della neve, ed era il 1922. Agli arrivi che ricordava poco fa, i passaggi meglio che ricordava poco fa Silvio Martinello sulla Tourmalet, bisogna aggiungere anche i tre arrivi alla Monji, che oggi i corridori troveranno in discesa andando verso San Marito Campano. E c'è stata gloria in cima al Tourmalet, anche per diversi corridori italiani. Il primo fu Bottecchia, poi fu la volta del grandissimo Gino Barco. che ti batte sul coppino, è veramente molto molto duro. 19 chilometri, la Tourmalet, l'avete già detto, l'hai già spiegato ampiamente, si va a 2115 metri, una salita interminabile, perché comunque poi finisce con il pezzo più duro. Laghi, neve ancora residua, una meraviglia insomma. È veramente un bellissimo spettacolo anche da offrire ai nostri affezionati telespettatori e qui ci dovrebbe essere un osservatorio. L'Epecto Midi, l'abbiamo visto anche ieri, l'osservatorio più famoso, così come siamo passati da Lourdes, che per certi versi è uno dei posti più famosi al mondo. Gli appassionati di astronomia sicuramente sanno che stiamo parlando di uno degli osservatori conosciuti, si va in altura perché lì l'aria è più rarefatta e quindi teoricamente dovrebbe essere più limpida. Da lì insomma, ecco, se non trovassi posto come guardiano del faro, diciamo che qui forse prenderei anche meno di stipendio volentieri. Quasi quasi vengo anch'io, perché guardare il cielo, le stelle, i pianeti... L'unico posto che preferirei al faro forse è un osservatorio stile Pic D'Humidi, se vi volete mandare alle ande, qualcuno magari fa piacere, qualcuno no, ma io ci vado con moglie e figlia, anche subito. Siamo molto contenti di essere su questo pianeta perché lo spettacolo che possono essere le Dolomiti che per conto suo hanno questo fascino, ma le Alpi, i Pirenei, insomma, ci offre sempre delle cose molto molto belle e i corridori affrontano queste montagne con il piglio degli eroi, perché per conto mio quando tu vai in bicicletta e scali queste montagne, un po' pazzo ci devi essere, perché la fatica si fa sentire, però è una meraviglia quando poi arrivi in cima e doppi il traguardo della montagna e poi ti liberi nella discesa, è una soddisfazione incredibile. Io credo che i tanti ciclamatori che sono all'ascolto e che ci seguono capiscono quello che voglio dire. E qua è un'immagine sul gruppo, un gruppo già abbastanza ridotto e vediamo che a fare l'andatura sono gli uomini del colombiano Nairo Quintana, con subito dietro le maglie nere del Team Sky, sono pronti a rilevare le varie andature. Allora Riccardo, il riassunto della tappa fin qui è presto fatto perché vi abbiamo detto... Anzi mi scuso, scusami Salvo, sono gli uomini della Sky che stanno lavorando. Bene, allora è presto fatto il riassunto perché come previsto la prima ora non poteva succedere granché perché nessuno lascia andare una fuga facilmente in una tappa del genere. Prima ora Riccardo, media generale 51 km orari, tanto per gradire a oltre 30 gradi di temperatura. In prossimità dello sprint intermedio ci sono state diverse azioni con diversi corridori che hanno tentato di avvantaggiarsi ma quella vera è uscita proprio in prossimità dello sprint intermedio che si è giudicato Michael Matthews che più la corsa è dura e più viene fuori l'australiano storicamente ma poi tirano dritto Rafa Maika e Thibaut Pinot che da poco nel corso della salita sono stati raggiunti da Tony Martin. Tony Martin che vedete in terza posizione e si è formato questo terzetto che ha un vantaggio sul gruppo principale di 2 minuti e 24. gruppo principale da cui ha perso contatto sulle prime rampe del Tourmalet Vincenzo Nibali che attualmente era accompagnato da Luis Leon Sanchez. Prima domanda Riccardo, cosa pensi dell'intervista di Rafa Maika stamattina che ha detto ti do due certezze, oggi non andiamo in fuga e oggi ci dobbiamo salvare. Rafa tra le altre cose ha vissuto e vive nei pressi di Collodi, è normale che lui voglia andare a vincere o perlomeno insidiare per la bugia dell'anno il premio Collodi, il premio Pinocchio, il Pinocchio d'Oro di quest'anno. Lui questa intervista l'ha fatta proprio in virtù di questo premio perché non è possibile, uno dice una cosa e poi ne fa un'altra. Ma va bene così, meglio, vuol dire che Rafa Maika si è rimesso a pedalare come dovrebbe essere il suo standard naturale in salita e di conseguenza va bene. Qui l'inquadratura è sul numero rosso che ha guadagnato ieri nella tappa Vincenzo Nibali Vincenzo Nibali che si è staccato di poco dal gruppo guidato dagli uomini del Team Sky E alla Philippe, che eravamo abituati a vedere in maglia bianca, ieri in effetti alla Philippe ha anche ricevuto la maglia bianca al cerimoniale di premiazione Ma c'è un'altra cosa di cui magari parliamo brevemente perché oggi ragazzi la strada ci porta via tutta l'attenzione ed siamo felici che sia così Ieri alla Philippe si era staccato dal gruppo principale ed è arrivato infatti con 7 secondi di ritardo dal gruppo Precedentemente, prima dell'ultimo chilometro, era scattato, non l'avevamo visto in diretta, abbiamo poi visto le immagini Adam Yates, il premio della sfortuna vera perché Adam Yates precedeva il gruppo di un centinaia di me Parte del Huey P. Newton Gun Group dedicato a uno degli Prima che passasse alla Philippe, che si è letteralmente, cioè Yates, che si è letteralmente cappottato ma lo ha preso in diretta Sembrava veramente studiato, sembrava una trappola tipo, ovviamente non lo era, è naturale E ieri quello che si diceva Riccardo, alle volte anche uno spettatore che passa con un piede ci inciampa La versione che si è successo proprio questo, staccato, smette di pompare il motore ad aria e l'arco crolla immediatamente È successo ad Adam Yates, che è stato accreditato nel tempo del gruppo e oggi veste la maglia bianca Jean Zon era con Maika e Thibaut Pinot all'inizio dell'azione, però poi ha ceduto, non ha tenuto il ritmo Jean Zon che sta per essere riassorbito dal gruppo Riccardo, veramente l'Oscar della malasorte a Adam Yates, ci auguriamo che, l'abbiamo visto sanguinante sul mento Si, ha preso proprio una bella musata perché è ribaltato contro questo arco gonfiabile Ora bisognerà vedere se oggi lo riproporranno perché di solito quando succedono queste cose diventa un po' problematico Intanto Alaphilippe ha abbandonato con un altro passo il gruppetto appunto dove fa parte Vincenzo Nibali Che è in compagnia con Luis Leon Sanchez, lo vediamo qua Alaphilippe che cerca di perlomeno non perdere molto come contatto dai primi Però lo vedo abbastanza tranquillo Anche perché questa è una tappa in cui bisogna gestirsi se comincia ad andare fuori i giri la prima salita Ieri per esempio per fare il punto sugli uomini di testa, Thibaut Pinot deve essere andato proprio in crisi Ha preso una botta anche proprio fisica perché l'abbiamo visto far lavorare la squadra all'attacco del Col das Pen E poi improvvisamente gli si è spenta la luce, ha cominciato a sudare e ha perso contatto dai primi Quello è un chiaro sintomo di una crisi improvvisa probabilmente dovuta anche alla male alimentazione Probabilmente non si è integrato bene, è stato male e improvvisamente ha dovuto mollare la testa Mentre Alaphilippe a mio avviso mi sembra che abbia preso un passo che probabilmente in quel momento Quando si è staccato gli dava un po' fastidio, gli rimaneva un po' indigesto Ricordiamo che questa è la prima salita delle quattro da affrontare oggi, dei grandi passi pirenaici La più dura perché è una horse category e comunque in ogni caso il Tourmalet è una salita che fa la storia del ciclismo E probabilmente Alaphilippe si è staccato cercando di gestirsi per poi magari approfittare della lunga discesa Per ritornare sui primi che vediamo sono numerosi nel gruppo Non è un gruppo completamente scremato perché l'andatura del Team Sky è un'andatura tesa a non perdere troppo dai tre di testa E probabilmente anche per cercare di fare un'andatura di gradimento a Chris Froome E vedete proprio l'andatura in questo momento di Chris Froome fatta da Michel Landa che vediamo in testa il gruppo L'andatura si avevo notato, fingevo di ignorare l'assonanza E Michel Landa che fa l'andatura e qui siamo con Alaphilippe E vedete che ha raggiunto Corrad, il corridore dorsale 137 Patrick Corrad della Bora Argon Si cerca insomma di darsi una mano no Riccardo? Non ridono Si gestisce quindi tranquillamente Cioè a volte ci sono degli atteggiamenti in questo tour veramente di rilassamento Anche Cerel aveva provato a seguire inizialmente le azioni d'attacco poi però è ribalzato dietro Questi sono quelli che tu definisci gli indiani dai classici film western Ebbè certo quando in gruppo quando vedevi il pubblico lassù in cima che ti aspettava Naturalmente la battuta era quella guarda gli indiani guarda lassù quanti sono E più o meno Modi per tirarsi su quando la vegetazione comincia a essere praticamente inesistente Vedi delle pareti di roccia rovente in questo momento perché fa caldo oggi Maica Pinot e Tony Martin in testa con 2 minuti e 16 98 e 100 alla conclusione siamo prossimi prossimi allo scollinamento Adesso da grafica ci dovremmo essere però non è detto Sì dove sono gli indiani dai Sì Cioè quando quello è un segnale quando vedi il pubblico lì che ti aspetta Lì dovrebbe essere in prossimità del Grand Prix della Montagna Mentre con lo sguardo allungato del falco alla Philippe guarda anche giù basso Per vedere e scorgere la selezione che c'è stata Un occhio lo dà anche al gruppo di testa Lui probabilmente sta andando su con il suo passo Mentre Thibaut Pinot non ci sta Attacca e Maica rimane attaccato alla ruota del francese Mentre Tony Martin ha un attimo di scedimento proprio in prossimità Del Grand Prix della Montagna del Tourmalet Che l'anno scorso vide Rafa Maica transitare in prima posizione Passò nel 2015 Rafa Maica Tourmalet Ci sono diverse versioni Riccardo che parlano di questo nome Ma una di quelle più interessanti e accattivanti È che il Tourmalet praticamente che è ovviamente un passo Intanto si sta arrivando al GPM Maica potrebbe prendere già la maglia qua Diciamo sulla carta anche solo passando primo qui Sì secondo me Maica cercherà di fare la volata Anche perché è un habitué E probabilmente nonostante lo sforzo di Thibaut Pinot Che si volta lo sa Che Rafa Maica è un cliente pericoloso Vedi lo cerca Ma Maica credo che abbia in dote un maggior scatto Ora per evitare problematiche è passato avanti Thibaut Pinot non ci sta È una volata vera e propria per questi due Però non vedono il traguardo Lo striscione del traguardo della montagna Che dovrebbe essere subito dietro questa curva Vediamo che Maica dovrebbe conoscerla meglio La posizione del Gran Premio della montagna Riparte Thibaut Pinot Evidentemente ha grandi gambe oggi il francese Perché Rafa Maica non riesce nemmeno a stargli a ruota E primo sul Tourmalet passa un francese Thibaut Pinot E succede proprio a Rafa Maica che fu primo sul Tourmalet l'anno scorso 25 punti a Pinot Che naturalmente sono importanti Anche se poi Maica con quelli che fa con la seconda posizione Attualmente è primo Probabilmente sono primo Maica e Pinot secondo così a occhio Adesso non conoscendo i passaggi successivi Dicevo Tourmalet fino al XVII secolo Non si poteva passare con nessun mezzo Né carri né nulla Passavano soltanto quelle che in inglese sono definite sedancere Non so come le definiamo in italiano Quelle sedie con le portantine Dove il re stava e non camminava naturalmente Dal XVII secolo i primi carri Per cui il nome Tourmalet deriva da una definizione Cioè la cattiva deviazione Cioè la strada peggiore per passare Tourmalet per cui Perché era molto impervia e molto difficile transitarvi Con dei carri Questa è la ragione di questo nome Una delle ragioni più accreditate Qui vedete alle spalle Tony Martin Alle spalle dei due Chiaramente Tony Martin Scalatore non è Quindi cedeva qualcosa al passaggio E qui Torniamo sulla Filippo Daniel Navarro Che probabilmente ha accusato Gli sforzi di ieri Si stava staccando dal gruppo Che ora ha allungato Ha accelerato leggermente l'andatura E come vedi anche nel gruppo Cominciano a esserci un pochino di Di distacchi Ma la selezione non c'è ancora Ancora stata effettivamente E vedete questo momento Filippo Corridori come si suol dire un po' Da tutte le parti Travediamo anche Teclai Mano Da questa inquadratura Vedete Daniel Moreno In maglia Movistar E poi vedete con il dorsale 24 Andy Grivko L'Ucraino del team Astana Mentre davanti Landa Continua a scandire il ritmo Davanti ai suoi compagni Landa che in questi giorni Dove c'è stato nelle salite Ha mollato il passo E questa è una tattica Che molte volte si vede ripetere Nel team Sky Nel team Sky Questo turnover Probabilmente definito anche Dalla direzione Perché magari non vogliono Sciupare energie E dei vari corridori Che verranno poi usati Adoperati Nel corso delle altre tappe Landa oggi Non avresti Cioè uno se guarda I risultati Fino ad ora Dice beh Landa dove vuoi che pare Invece guarda Michel Landa Come pedala Pedala molto molto bene A fare l'andatura Per il suo capitano E superato ora In questo momento Il Gran Premio della Montagna Il Tourmalet Con Alejandro Valverde Lì nelle prime posizioni 2.18 Ritardo del gruppo Dalla testa della corsa Ma dei Bresfold Peraltro non è nemmeno Una cosa nascosta Perché Bresfold Lo ha detto più volte La nostra gestione Della squadra è questa Ci sono corridori Che ogni tappa Hanno libertà Di recuperare Perché poi verranno impegnati Nei giorni successivi Ed è il nostro modo Di giocare Con i corridori Di giostrarci I corridori Nelle prime due settimane La terza Chi ne ha va Sì quelli che non possono fare Questi turn over Sono proprio From Insomma i capitani In generale Chiaramente Thibaut Pinot Che ha rilasciato Un'intervista Poco prima della partenza Tappa sui Pirenei oggi Parliamo di ieri Avete parlato Del tuo ritardo I tuoi problemi Ma non c'è È molto da dire su ieri Io ho soltanto Preso atto Che qualcosa Non è andato E non stavo bene Ma dobbiamo guardare Al futuro Il problema è che Noi non sappiamo Esattamente perché Io a un certo punto Non andassi Perché stavo bene Io cerco di fare solo il mio lavoro E poi però non posso decidere io Come sto Cambia qualcosa nella vostra strategia Non cambiamo assolutamente niente Noi abbiamo una squadra Abbiamo degli obiettivi Io sono consapevole di me stesso So come sto A giorno per giorno Ma la tattica è soltanto Fare meglio da domani Ci aspettano giornate molto dure Sì la tappa di oggi sarà Davvero molto dura Vedremo se ci sarà una fuga Forse si andrà tutto insieme Non posso dirti adesso Cosa succederà dopo Non particolarmente Diciamo amichevole Delle risposte di Vopino Ma è solo un atteggiamento Non è senz'altro Non c'è alcuna volontà negativa Tipo Pinot Che in questo momento È in testa con Rafa Maica E adesso Non stanno proprio collaborando Perché Pinot Ha portato via Maica i punti Adesso Maica sta cercando Di staccare Pino in discesa Insomma D'altronde Si gareggia per vincere Soprattutto quando le tappe Sono così prestigiose Riccardo Io credo che comunque Sia una questione normale Di corsa Perché la discesa del Tourmalet È una discesa molto bella Lo vedete anche da queste immagini Fantastiche Questi pratoni Ma la strada È molto Molto veloce È una strada che ha un fondo Non disastrato E di conseguenza Davanti si cerca anche di Mantenere quel vantaggio Che fino ad ora è rimasto Cioè hanno acquisito Due minuti e venti Per i due Io credo che Tony Martin Visto che è anche un buon discesista Possa rientrare sui due Che sono al comando In questo momento Dovrebbero essere Le scarpe di Tipo Pinot Essere inquadrate Che cerca la posizione più aerodinamica Possibile Mentre Raffa Maica Ha questa posizione sulla canna Che lo ripetiamo tantissime volte Non lo fate a casa Perché cioè Quelli che sono a casa Che magari vogliono emulare Questi professionisti Professionisti vuol dire anche Sapere E non sempre Però Sapere andare in bicicletta Perché è il ferro del tuo Mestiere Ci stai dalla mattina alla sera Ci mangi E ci fai anche tutte le altre cose Quindi Soprattutto sono quella ventina d'anni Che ti ci alleni su Quindi insomma Questo dovrebbe essere Sì Bicicletta Cioè Un corridore professionista Anche un buon Under 23 Comunque corridori Che comunque La mattina Prendono la bicicletta Per andarsi a allenare Vanno in giro E ci vivono 24 ore su 24 Si può dire Insomma Perché se la portano molte volte Anche in camera da letto E quindi Molte volte È notorio Abbiamo un break Tra poco 198 Le tre tappe Pirenai Che è la prima tappa Con un gran premio Della montagna Dior Categori Il Col du Tour Malais Che è stato già superato Dai corridori di testa Si tratta di Thibaut Pinot E Rafa Maica Vedete attualmente Tony Martin In segue a 7 secondi Martin Aveva raggiunto la coppia Al comando Nel corso dell'ascesa Poi ha perso qualche metro Negli ultimi metri Lo scollinamento Di Thibaut Pinot Fa di lui Il nuovo leader Virtuale Del gran premio della montagna Perché i soli punti Del Tour Malais Sono 25 Maica Che ne aveva 2 Transitando secondo Ne ha presi 20 Quindi adesso segue A 22 punti Maica in seconda posizione Ed è una lotta Che da oggi in poi Si fa naturalmente interessante Non aveva punti Tony Martin Gli altri più staccati Avete visto Che c'è un gruppo Dei migliori Dai quali hanno perso contatto Sia Greg Van Averman La maglia gialla All'inizio Della salita del Tour Malais Poco dopo Anche Vincenzo Nibali Anche la Filippo aveva perso contatto Ma poi stava cercando Di rientrare Nel tratto di discesa 85 chilometri Alla conclusione E mancano 3 Grappie della montagna Allora vediamo Once to watch Gli uomini Che ci segnala Roman Kreuziger È il primo uomo Da vedere Perché Secondo Solo 11 secondi Dietro Froome Dopo 7 tappe Ed è lì Sta andando molto bene E io credo Che mandare Rafa Maica Sia un ottimo puntello Un'ottima strategia Per vedere come va 40 secondi Di ritardo Da Froome Abbiamo Grant Thomas È un altro Dei corridori Che oggi potrebbero Provare l'azione Vedremo poi Se sarà un lavoro Inteso a favorire Froome O meno Il terzo corridore È un corridore Che ha ritardo Di ben un minuto e 45 Da Chris Froome Dopo 7 tappe E rici porte Naturalmente Nonostante abbia perso tempo Lui è sempre In buone condizioni fisiche Quindi perché no Potrebbe provare A recuperare parte del tempo Questi sono i tre uomini Riccardo Segnalati da Juan Antonio Flecia Abbiamo parlato Intanto chiedo Cioè ringrazio Non chiedo scusa A uno dei nostri amici a casa Perché nel raccontare Una situazione decisamente anomala Kurt grazie In effetti La questione di Alaphilippe Alaphilippe era scattato Sì Per guadagnare secondi Yates Alaphilippe era in gruppo La regola dei tre chilometri È stata applicata Alla lettera Vale a dire Incidente nei tre chilometri Ti viene accreditata La posizione del gruppo Di cui facevi parte Yates era da solo Hanno misurato il vantaggio In sette secondi E glielo hanno dati all'arrivo Certo avrebbe preferito Forse rinuncerà ai sette secondi Comunque È stato fatto che la regola È stata applicata In maniera precisa Quindi niente di strano Se non che veramente È una situazione Più unica che rara Come si suol dire Pino Maica E Tony Martin Che ha raggiunto i tre davanti Sarà un po' un elastico Perché Maica E Pino tenderanno a guadagnare In salita E Tony Martin Vedremo Quanto terrà Abbada Il suo ritardo Per poi provare a rientrare E qui vedete Questo è l'inseguimento Invece di Giuliano Lafilippe Lo vedete in questo momento Provare a rientrare In discesa sul gruppo Vi dicevo Nibali e Alaphilippe Che si erano staccati Nell'ascesa Ora provano A riprendere Il gruppo principale Vedete Sono a 5 minuti E 07 Però dalla testa della corsa Devono recuperare 3 minuti al gruppo Sì Direi che è molto difficile Anche perché Se il trend è Ti stacchi su una salita La prossima Ti ristacchi un'altra volta Cioè non è che La mera teoria dice così È difficile che poi Ci sia proprio Un cambiamento Di questa cosa A meno che davanti Non vadano talmente piano Che ti permettono Di rientrare E poi magari La prossima salita La fanno tranquilla E magari ci rimane Però insomma Se ti stacchi Sulla prima Anche se il tour malè È abbastanza lungo E anche dura È chiaro che poi dopo Si è destinata A ristaccarti Però di solito In queste tappe Ci sono anche Dei rientri Perché molte volte Anche il gruppo Lo dimostra Cioè ci sono Tanti corridori Facenti parte La prima parte Del gruppo E di conseguenza Anche Alaphilippe E Vincenzo Nibali Potrebbero Teoricamente Anche rientrare Nel gruppo Che è all'inseguimento Dei Fuggitivi Di giornata Con un Tibopino Che a me Sarebbe piaciuto Forse più Incisiva La domanda Nel capire Se effettivamente Lui stesso E i suoi Della sua squadra Erano riusciti a capire Il perché Della debacle Improvvisa Io ieri In telecronaco Ho detto Secondo me Lui non sa nemmeno Perché E quando se lo chiederà Non riuscirà a capire Però Poteva chiedere È stata una crisi di fame Una mancanza di zuccheri Ti sei alimentato male Invece Non è stato così Questo è L'altimetria E il percorso Di quest'oggi Con le previsioni del tempo Che Ci azzeccano Un po' A quella maniera Perché ieri Avevamo detto che pioveva Che c'erano dei piovaschi Poi In realtà Fortunatamente Niente di tutto questo Oggi è una giornata bellissima Con una giornata Calda E Quella normale Classica Giornata Del Tour de France Sui Pirenei Allora È inevitabile Che anche soltanto Riccardo I nomi delle località Correggimi se sbaglio Quando si va Per esempio Sui Pirenei Rimandino A tanti di quegli episodi Del ciclismo In chiaro scuro Chiaramente Io so che anche tu Hai ricordi da queste parti Greg Le Monde Ci ha ricordato Di un Tour De France In cui Ino doveva essere Il suo gregario Ma se Ino sta bene Al Tour de France Vuoi che faccia il gregario a qualcuno Insomma Non si può Bensimare un campione Allora Ci fu questa botta e risposta Aveva perso dei minuti Le Monde Ne riprese altri cinque Insomma I Pirenei sono sempre stati Terra di ribaltamento Di classifica Sicuramente Ha più ricordi Greg Le Monde Che io Insomma Io ho fatto due Tour de France Però in queste zone Ci sono transitato Per tutte e due le volte Poi Non ho terminato Il Tour de France Da cui ho partecipato Uno perché probabilmente Ero ancora inesperto Perché nel terzo anno Da professionista Mi trovavo nella squadra Di Boifava Dell'Inox Prana Con Giovanni Battaglina Che poi concluse Al quarto posto Vincendo la maglia De Green Pair De la maglia De la montagna Una giornata Particolarmente Piovosa Mi costrinse poi Al ritiro Io Col freddo E con la pioggia Non riuscivo Ad avere Quel feeling Che ci vuole Per fare il corridore Lo ammetto Avevo le mie debolezze Anche Grandi Certo è che Ti dico Ormai A distanza di tanti anni A distanza di 33 anni Erano ieri Della mia Apparizione Al secondo Tour de France In cui partecipai Sinceramente Oggi Con questa testa Avrei sicuramente Fatto diversamente Avrei stretto i denti Maggiormente Perché poi ti rimane La delusione Di aver mollato Guarda Ti dico tante volte Nel commento Devo essere onesto A volte Uno può anche dire Ma chi è Magrini Chi vuoi Che si Io ho fatto dieci anni Il professionista Sono stato In squadra Con grandi campioni E di conseguenza L'esperienza Te la fai lì Io ho tre anni Con Vanimpe Mi hanno voluto dire Tantissimo Perché Ragioni con un'altra testa Ragioni con una testa Dal leader Ragioni con un corridore Che aveva vinto Il Tour de France E nelle corse a tappe Nelle grandi corse a tappe Era sempre molto Motivato E quindi cercava La classifica Quindi cambi Sono stato con Ioanzo Che era un campione Che ha durato poco Però Per le corse in linea Era fantastico E comunque In ogni caso Il fatto di stare In squadra Con i campioni Impari molto di più Si sta parlando Di un'epoca Completamente diversa Perché le squadre Erano formate Da 13 14 elementi 12 Cioè Non è che Erano squadre Di 27 corridori Come oggi E fanno una tripla Attività Quando siamo venuti Al Tour de France Erano gli stessi Che avevano fatto Il Giro d'Italia E di conseguenza Poi un po' Valeva anche la regola Anche per noi Non è che puoi far tanto La doppietta Io a Bagnard de Luchon Mi ci sono fermato E la tappa partiva Proprio da Po In una giornata Che era simile a questa Ma mi dispiace ancora Trans potrà essere questo Di Alberto Contadori Iniziato così in salita Stefano Finora Molto sfortunato Però È passato quasi indenne Sulle prime salite Ha perso A 1 dei 21 Solo Dai vari Leader Delle grandi squadre Intanto Raffa Almaica Chissà perché Qua davanti Per cercare di vincere La tappa Può essere anche Un punto d'appoggio Per un probabile Anche attacco di Alberto O di aspettare Alberto In un momento di crisi Maica Sempre molto Importante Nella gestione Della corsa Della Tinkoff Intanto qua Il team Sky Con Michellanda Che sta facendo Un'andatura Abbastanza tranquilla In questo momento Torniamo da Francesco Pancani Silvio Martinello Grazie Alessandra Nella discesa Del Turmalee Intanto Tony Martin È riuscito A recuperare Dunque si è riformato Un terzetto Al comando Con Thibaut Pino Con Raffa Almaica E appunto Con Tony Martin Adesso hanno un vantaggio Questi tre Di due minuti e mezzo Nei confronti Del gruppo Dei migliori Allora In classifica generale Thibaut Pino Ha un ritardo Di 9 minuti e 50 Da Greg Van Avermaat Però Considerando che Sta saltando Quest'oggi Greg Van Avermaat Diciamo che a circa Tre minuti e mezzo Da Chris Froome Da Nairo Quintana Da Fabio Aru Da Romain Bardet Potrebbe oggi Rientrare anche In classifica generale Pino Silvio No Dio Con questa azione Ci sta provando Certo dietro Non stanno lasciando spazio Sono 2 minuti e 32 Quindi stanno tenendo Sotto controllo Quintana e Chris Froome Hanno i loro compagni di squadra Due formazioni molto solide Che stanno lavorando Un dato di fatto Per ora è certo Io non so Se Thibaut Pino Potrà rientrare in classifica Con questo atteggiamento Però Ci andrà molto vicino Perché è un atteggiamento Veramente che dimostra E testimonio ancora una volta La sua determinazione E la sua capacità E soprattutto Guardo quindi Poco fa Virtualmente Ma possiamo dire Insomma In questo momento Lo è assolutamente Perché Greg Van Avermaat Ha lasciato il tutto Maglia gialla Virtuale Adam Yates Il secondo Della classifica generale Che fa parte Del gruppo di Chris Froome E di Nairo Quintana Sta pedolando Con tranquillità Nella pancia del gruppo Sono sempre le formazioni Di Quintana E di Froome Che controllano La situazione Maglia bianca Leader della classifica Riservata ai giovani Da ieri Adam Yates E anche con I ritardatari Stiamo arrivando A Saint-Marie De Campana Da dove parte Il versante orientale Del Tourmalet Porta d'accesso Verso La valle di Barege Anche Nella storia Del Tour de France E del Tourmalet Alcuni episodi Sono legati Anche Alla nome Di questo paesino Che è ai piedi Proprio del gigante Dei Pyrenees Il più famoso Quello del 1913 I pionieri Della bicicletta 1913 Quando Eugène Christophe Che era il favorito Di quel tour Ruppe la forcella In una caduta Nella discesa Del Tourmalet Era primo Con un vantaggio Di 18 secondi Ma dovette arrivare A piedi Senza neppure tagliare I tornanti Perché se no L'avrebbero squalificati A Saint-Marie De Campana Trovò una fabbro E se la dovette Riparare Da sola La bicicletta Perché i corridori Non potevano essere Aiutati Ci fermiamo adesso E ripartiamo Anche su Rai 3 Amiche ed amici Bentornati I Pirenei Una delle zone Più affascinanti D'Europa Del grande ciclismo E non solo È una delle zone Più affascinanti D'Europa In senso lato La catena Dei Pirenei Vedete in questo momento La testa della corsa Dell'ottava tappa La Pobanier de Luchon Di 184 km Abbiamo Rafa Maika Polacco E campione nazionale Polacco della Tinkov In seconda posizione Tony Martin Che dopo essersi staccato In conclusione Dell'ascesa Del Tourmalet Si è poi Riportato in testa Nel tratto fondamentalmente Di discesa E Thibaut Pinot Che è scolinato Per primo Sul Tourmalet Diventando il leader Virtuale Della classifica Del Gran Premio Della montagna Perché mi hanno segnato Qualcosa La Radio Tour Ci ha detto qualcosa Riguardate Adam Yates Ho sentito Nella stessa frase Crash E Adam Yates Non vorrei vedere Ah La caduta di ieri Probabilmente Dall'homeboard camera Perfetto È la caduta Che ci faranno rivedere Dall'homeboard camera Probabilmente posizionata Sulla moto Della moto Dell'assistenza neutra Ed eccola qua Guardate che lavoro Che fa L'arco è lì In quel momento Sta per entrare l'arco E lui andava Stava andando Sicuramente a 50 Quasi a 50 45 Ha preso una musata Incredibile Tra le altre cose Anche La moto Ha subito Proprio Sembrava fatta apposta Peccato Cioè Guarda che uno Poteva anche cadere Sull'altra parte Del gonfiabile E evitare di farsi male Poteva cadere Mezzo secondo dopo Avrebbe preso Il gonfiabile in faccia Non si sarebbe fatto niente Stile airbag Chiaramente il tempo Quando diciamo Sembra fatto apposta Il fato Ecco vedete La visita E questo Insomma L'eleganza Di Christian Proudhon Non tutti avrebbero Questa diciamo Sensibilità Di andarsi a scusare Praticamente Personalmente Con Adam Yates E questo Io credo Che sia un bel gesto Perché andarsi a scusare E credo Che abbiano apprezzato Anche Gli uomini Della Orica Green Della Orica Come si chiama Bike Exchange Bike Exchange Era appena che abbia Sposto Sai Cummings Insegna Come si chiama Quello là Lungo Quello alto Della Orica Bike Exchange Ecco E Credo che abbiano apprezzato molto E abbia apprezzato anche Adam Yates Che Insomma Il patron del tour Si è andato a far visita Nel pull E non datelo per scontato amici Perché spesso accadono incidenti Che Uno dice Tanto non è colpa sua Certo Ma lui manifesta una solidarietà Alle volte un bel gesto Chiedere scusa Non costa nulla E sortisce degli effetti Enormi Per tutti Intanto Van Averma Ti ricordiamo la maglia gialla L'ho già ricordato più volte Per chi si fosse collegato a poco È stato tra i primi A staccarsi ai piedi Del tour malè La maglia gialla Ha perso contatto Poco dopo avete visto Alla Philippe Vincenzo Nibali Che ora si trovano in un gruppetto All'inseguimento Del gruppo principale Oh La prima volta Viene intervistato quest'anno Mi sembra Nicola Portal Direttore sportivo francese Del Team Sky Che spesso è ospite Di Laura Messerghia Nelle interviste mattutine Sarà Eh beh Ma l'hanno intervistato In una tappa Che ci vuole Sentiamo adesso Cosa ha detto Oggi abbiamo una seconda tappa Pirenaica Molto interessante E naturalmente tutti Gli occhi di tutti Sono puntati sulla Sky E su Froome Beh io direi che Sono tre atti consecutivi Ieri è stato il primo atto Di tre tappe molto dure Naturalmente tutta la squadra Si è presa in mano La responsabilità Il peso della corsa Ma è normale che sia così Perché abbiamo il campione uscente Ieri era una fuga Che non ci piaceva tanto Non tanto per la maglia gialla Ma la presenza di Nibali Per noi non andava tanto bene Anche perché ricordiamo Che poche settimane fa Era così lontano Dalla prima posizione E poi ha vinto il giro Di Nibali Non ti puoi mai fidare Insomma oggi Oggi abbiamo una tappa In cui ci sono quattro salite Con mille metri di dislivello Ciascuna circa Quindi parliamo di Quattro mille metri di dislivello Una tappa molto dura E non solo la salita Ma anche le discese Saranno importante Io non so se oggi Vedremo la battaglia Fra gli uomini Di altissima classifica Sul Perosur Potrebbe C'erano il 50% Di probabilità che accada Ma domani Senz'altro Sarà la tappa In cui gli uomini I capitani Si entreranno in gioco Anche perché Se tu dai tutto Quello che hai oggi Domani potresti Pagarlo molto caro Quindi dobbiamo Tenerci pronto Sia per una corsa dura Impotentica Già di oggi Sia per una corsa oggi Interlocutora In vista della battaglia Vera di domani E' il classico tipo di tappa Difficile da interpretare Così alla partenza Bisogna vedere come si evoca Magari Se ti trovi A 5 km In testa Dalla sommità Puoi provarci Certo Perché dici Proviamo a mettere Un po' di pressione Agli avversari Ma non puoi Deciderlo prima Tavolino Però sono sicuro Che qualora oggi Non avvenisse La battaglia Fra capitani Domani Sarà inevitabile Potrebbe cambiare la maglia gialla Sì potrebbe Perché ieri Van Avermaet ha speso Molta energia Andando in fuga Quindi oggi non credo Che sarà così facile Per lui Secondo me Van Avermaet Non so come sarà Adam Yates Per la caduta di ieri Perché ha messo molto bene In classifica generale Dicevo che sono sempre Molto particolareggiata Le interviste Tra Laura Besseghe E Nicola Portale E anche in questo caso È stato ricco E generoso di particolari Vincenzo Nibali E il gruppo di seguitori Loro si trovavano A 5 minuti Quasi a 5 minuti e mezzo Passano ora Dalla zona di rifornimento fisso Di La Sub Dove è già transitato Il gruppo E Riccardo Tra tante storie Adesso mi piace Menzionarne una In un momento Un breve momento interlocutorio Che riguarda proprio La Paul Bagné de Luchon Perché per esempio Qualcuno ricordi negativi Qualcuno positivi Non parliamo di Marco Pantani Da queste parti E quanti ricordi belli Insomma conserveremo Sui Pirenei Però Nel 58 per esempio Quando si parla del corridore Che non è il capitano Siccome sentiamo sempre dire Oggi non è la giornata dei capitani Allora Forse Giornata di gloria Per un capitano Perché era il 58 Ed era il 9 luglio Come ieri c'era L'anniversario numero 33 Della tua vittoria Al Tour de France Oggi è un altro anniversario Nel 58 Il 9 luglio Si disputava La Paul Bagné de Luchon E quella tappa La vinse Lo spagnolo Bahamontes Ma secondo Arrivò Un gregario italiano Favero Che indossò La maglia gialla Quindi salutiamo Vito Favero Che sappiamo Che di tanto in tanto Ci segue Salutiamo L'amico Moreno Che lui È un appassionato Che prende sì le ferie La terza settimana del Tour Ma non per andare al Tour Per stare a casa In modo che la mattina Va in bicicletta E il pomeriggio segue Di solito noi Visto che c'è scritto Immagino Quindi grazie A Moreno Che ci ha ricordato E salutiamo Vito Favero E la sua maglia gialla Del 58 Intanto i tre là davanti Siamo a 73 chilometri La conclusione Come già detto Dopo i primi 70 chilometri Pianura praticamente è finita Perché dopo il rifornimento Il rifornimento era già In salita Riccardo Quindi eravamo già Praticamente alle pendici Di un colle Che dovrebbe essere Il meno duro di giornata Orchè Dancizan 8 chilometri e 2 Al 4,9% Quindi teoricamente Una salita pedalabile Dove non dovrebbero Accadere grandi Grandi sconvolgimenti No Riccardo No In sostanza Dovrebbe essere Abbastanza Tranquilla ora La situazione Il gruppo Sta andando via Mantenendo sempre Quel distacco Nei confronti Dei tre fuggitivi Un gruppo Che è molto Molto numeroso E un gruppo Ancora molto numeroso Un penticello leggero Quando era aumentato Bahamontes Federico Bahamontes L'Aquila di Toledo Era un grandissimo Scalatore Un grandissimo campione E comunque In ogni caso Diciamo che In quel frangente Tu parlavi Del 58 Ma quante tappe Sono partite da Po E quante tappe Sono arrivate a Bagnard Bruchon È incredibile Questa sede di tappa Quasi una Una sosta fissa Per il Tour de France Approcciare Su queste strade E vediamo anche Tantissima gente Sendo anche sabato Ma poi Comunque In ogni caso Su queste salite C'è sempre Tantissima gente È ben disposta Finora Ai bordi strada A parte qualche Maschera Del Carnevale Di Diareggio Che ci sono sempre Purtroppo Ma La moto Delle borracce Offre Addirittura Ai corridori Tirando fuori Appunto La borraccia Che è fornita Dalla Organizzazione E Oggi si beve molto È una Giornata molto calda Abbiamo visto Prima Nel Il fornimento Quando Vincenzo Nibali Guardava E frugava Nel suo sacchetto Andando a cercare La borraccia Probabilmente Una l'ha rimessa dentro Perché probabilmente Era La borraccia Segnata Con i sali E tanto abbiamo Un break pubblicitario Adesso alle viste Questo è il gruppo Di seguitori con Nibali 72 alla rinno Siamo naturalmente In salita Con i tre battistrada Maica Pino E Martin Votaggio Sul gruppo Di Julien Alafilippe Ed è Diventato Secondo In classifica Generale E anche Ha vestito La maglia bianca Di leader Della classifica Dei giovani Strappandola Proprio A Julien Alafilippe Che adesso Fa parte Di questo Gruppetto Che vediamo In quadrato Ed è il gruppetto Che comprende Anche Vincenzo Nibali Lo abbiamo visto Con il numero Rosso Attaccato sulla schiena Nibali Che ieri è stato premiato Come il più combattivo Della tappa Che si è conclusa La prima giornata Sui Piranei E la tappa Che si è conclusa Lac du Payol Orquette Dan Cisane Salita di 8 km A 200 metri Con una pendenza media Del 4,9% Mai fatta In questo senso Dunque quello che parte Dalla Valle di Campan E da Payol Questa è la prima volta In assoluto Che viene fatta Da questo versante Al Tour de France La salita Di Orquette Dan Cisane Che già Ha una storia ciclistica Molto giovane Perché la prima volta In assoluto Dall'altra parte Era stata fatta Nel 2011 Nella tappa di Luzardyven Vinta da Samuel Sanchez E per primo Transitò in cima Il francese Laurent Mangiel E poi nel 2013 E' stata fatta Anche in quell'anno Per primo E' transitato In quell'occasione Daniel Martin Il gruppo Sempre con un condotto Dal Team Sky Sta transitando Dove ieri Starà fissato L'arrivo Proprio A Lac du Payol L'arrivo Della tappa Numero 7 Di questo tour Quindi anche il gruppo Frum Quintana E Fabio Aru Tra poco Arriverà Alle pendici Di questo secondo Gran premio della montagna In programma L'Orchette d'Anzisane Questa salita inedita Da questo versante Per il Tour de France Come vi ha ricordato Francesco 8 chilometri 200 metri Una pendenza media Del 4,9% Un gran premio della montagna Di seconda categoria Un piccolo antipasto E un piccolo dessert Dopo il grande Tourmalet Che è stato percorso In precedenza E prima invece Del gran finale Sul Valurone Sul Col de Péressur Prima di arrivare A Bignor Sul traguardo Di Bagnard de Luchon Con due minuti Dieci Il vantaggio Del terzetto Al comando Sul gruppo Frum E Quintana E Fabio Aru Sempre con il Team Sky Particolarmente determinato Oggi Sono ritornati in palla Anche Michellanda Del Votor Pulse Che nella prima etapa Di montagna Hanno avuto qualche difficoltà Porta il tuo talento Nel trading Nel trading Certo il Tourmalet E' una salita che mi piace Ci sono passato per due volte Per due volte Sempre in terza posizione E chissà che oggi Magari la situazione Possa anche migliorare Per me Diceva Daniel Martin E poi Gli obiettivi La previsione Sullo svolgimento di oggi In un grande giro Difficile capire Cosa può succedere Diceva Daniel Martin Sulle grandi montagne Magari potrebbe essere Anche una tappa Da fuga Fuga che in tanti Hanno cercato di portare via Nella prima parte In un falso piano Bianca Diez Segue con un ritardo Di 1,54 Secondo GPM di giornata Seconda categoria La forchetta D'Ancizan Per dirla all'italiana Seconda categoria Dopo il Tourmalet Saluto Moreno Che primo ringraziato Naturalmente Il nostro modo di dire Ogni tanto si segue E' riferito anche A chi Diciamo gareggia Su altre strade Sappiamo insomma Che chi ci lascia A nostro avviso Noi diciamo sempre E' andato altrove Non diciamo mai Non c'è più Quindi aver detto Che ogni tanto Se ci sta seguendo O che ogni tanto Ci segue da ovunque sia Era riferito a quello Moreno Vai tranquillo Insomma è un modo Che abbiamo Di rendere le cose Più lievi alle volte Di quanto si possano descrivere Maika Pino E Tony Martin Hanno due minuti di vantaggio Tipo Pino Con lo scolinamento A 25 punti E la nuova maglia Apoa virtuale Poi c'è un'altra frase Rilasciata da Maika Che è stato un po' scalpore Tanto che vediamo Gallopin staccarsi Però adesso Abbiamo un'intervista Questa mattina Quindi Riccardo Ci riferiamo a questa Non te la riporto io Per noi non è un momento facile Ecco Riccardo Ti pergredi Di riprestare attenzione A queste cose Perché poi faremo Il paragono con la realtà L'unico obiettivo Per noi È cercare di stare Con gli altri Perché abbiamo sofferto Anche per me Non è facile Perché dopo il Giro d'Italia Avrei bisogno di riposo E cerco di arrivare In fondo alla tappa Magari per le Alpi Spero di avere Una condizione migliore Per essere utile Cosa pensi faranno gli altri? Ma io credo che Prima del Tourmalet Non nasca la fuga buona Oggi abbiamo più di 4000 metri di dislivello Non è semplice Fa anche caldo E penso che anche Alberto Adesso sta recuperando Sta migliorando piano piano Il nostro obiettivo È ancora vincere il Tour Con Alberto Insomma io penso che Adesso mancano diversi giorni All'età per alpine Per esempio Penso che prima di allora Alberto si riprenderà Al momento l'obiettivo È sopravvivere E provarci magari domani Oggi sopravviviamo Domani proviamo Poi no È una frase Che ha detto Maika Che a qualcuno ha dato Non è piaciuta tanto Quando Maika ha detto La strategia Noi abbiamo due leader Che sono Roman E Alberto Contador La prima Normalmente si diceva Noi siamo tutti per Alberto Ma l'aveva detto anche A inizio Tour Nella presentazione Quando partirono Dalla Normandia Sagan ci tenne A sottolineare Il fatto che Noi siamo tutti qui Per Alberto Contador Quindi Che abbia messo dentro Roman Kreuziger Di rimbalzo Non so È un po' stonava Dire così In un momento in cui Teoricamente si deve parlare Solo del capitano Vabbè comunque Beh ha parlato comunque Sostanzialmente Di quelle che sono Le difficoltà di oggi Tanti metri Di dislivello E tanti metri Di dislivello Pensa Ti voglio raccontare Di questa cosa Che poi ho scoperto Un po' per caso C'è una challenge Una sfida Al dislivello Di 8.848 metri Che è l'altezza Dell'Everest E si chiama Everesting Praticamente Questa è una sorta Di sfida Beh è bello anche il nome Interessantissimo È una cosa simpatica Che Stefano Cecini Che è un ex professionista Del fine anni 80 Oggi Proprio oggi Sta facendo Sta scalando In questo momento Credo che Intorno alla nostra Prima Inizio Telecronaca Fosse Avesse già fatto Quattro volte Il Mortirolo Quattro volte Da questa mattina L'ascesa è Praticamente Fare sette volte Il Mortirolo E praticamente È una regola Mondiale Questa è una Challenge Che poi viene Messa Su Strava E ovviamente Tutti potranno Seguirlo Quindi è una È un primato Che viene Che viene proprio Divulgato A livello mondiale Stefano Cecini Detto il cesio Si fa praticamente Accompagnare Da diversi Diversi Ex professionisti Diversi amici Anche Che Lo sosterranno In questa impresa Perché L'impresa si tratta Fare sette volte Il Mortirolo Io credo che Già farla una È una buona prova Veramente Molto molto difficile Comunque Ci sarà anche Il nostro amico Direttore sportivo Alberto Volpi Che salutiamo caramente Marco Cattaneo Anche lui Ex professionista Insomma Tanti amici Che si metteranno Praticamente A disposizione Di cesio Che Praticamente Insomma Cerca Cercherà Di fare Un'impresa Oggi Con questo Everesting Everesting Che è una cosa Molto molto Bella Ci sarà anche Fra le altre cose Mi ero dimenticato Pierino Confortola Che è un personaggio Del fondo Insomma Mondiale Del fondo Dello sci Insomma Tanti tanti amici Accompagnare Stefano Cecini Detto il cesio Che Insomma Anche noi Sette volte Il mortiro Se lo sa Ada Manse Riccardo ci va a provare Anche lui Te lo dico Perché questo è il classico record Alla Ada Manse Che fa Il quindicesimo Grande giro consecutivo Con quello di quest'anno Sicuro Sicuro Intanto saluto Mauro Che dice Ho già il mal di gambe Al solo pensiero Effettivamente Fare sette volte Il mortiro Perché la regola è Fare questa salita E ripeterla Riscendere Dallo stesso percorso E ripartire Non c'è una Una regola Ben precisa Nel senso del tempo Ma quanto Quante volte lo fai E proprio lo devi fare E quindi coprire Il dislivello Che è Praticamente L'altezza Dell'Everest Un'idea Un po' pazza Come spesso Viene fuori Nel nostro mondo E Un mezzo pazza Come il cesio La raccolta E chiaramente Fa piacere Anche averla Menzionata Poi Aspetteremo Domani Sicuramente Nel tappone Voglio sapere In quanto tempo L'ha fatta La VAM Eh sì La VAM E i VAT Allora Intanto vedete In questo momento L'inquadratura Alberto Contador Lo vedete inquadrato Proprio con la sua Classica andatura Proprio a ruota Di Roman Kreuziger Questo è quello che resta Del gruppo principale La situazione A 68 dall'arrivo Vede tre uomini Al comando Che sono Tony Martin Etis Quisteper Afa Maika Tinkoff E Thibaut Pinot Della Francese A 1.14 Solitario Ma già Dallo scollegnamento Del Tour de Malet C'è Roman Sikar Il corridore Basco Francese Quindi proprio di queste parti E da 1.14 Da solo Terzo Ha scollinato Il Tour de Malet Il gruppo 1.42 A 5.20 Il gruppo di Nibali Al quale si è aggregato Il gruppetto Con Greg Van Avermaet La maglia gialla Sono a 5.23 Dalla testa della corsa Tech Talk È il momento Della chiacchierata Tecnica Con Juan Antonio Flecia Che spesso ci mostra Dalle bici Sapete che a lui Qui abbiamo il permesso Di entrare dentro Il camion Dei meccanici Della Sky Arrivano Delle tappe di montagna Quindi vi mostriamo La bicicletta Per le montagne Del Team Sky Una prima regola Evidente Questa specificatamente È la bicicletta Dei Grand Thomas Ci sono degli inserti Di carbonio Nel telaio Per ragioni di peso Vediamo quanto è il peso Adesso Perché ci sono proprio Degli inserti Di materiale Ma adesso dobbiamo controllare Il peso di questa bellissima bicicletta Vediamo E così qua La bilancia Vediamo esattamente 6,8 è il limite regolamentare 6,840 grammi 6,840 grammi Quindi è leggermente superiore A 6,8 Permessi dall'U6 Insomma Questa è una garanzia Di avere la bici Più leggera possibile Secondo i regolamenti Potrebbe rimanere ancora 40 grammi Pensa Quindi bisogna fare Un po' di nastro qua Un po' di olio E meno là Romanzi Car Dicevo Precedeva il gruppo Dallo scolleggiamento Del Tourmalet E ora Vede il gruppo Con Landa Che sta facendo Un ritmo Notevole Penso che Landa Si è incaricato Di fare l'andatura Sul Tourmalet E lo sta facendo Anche su questo passo Per dire La gestione Degli uomini Nel Team Sky E' veramente Maniacale Perché In effetti Tutto è Maniacale Nella Nella gestione Di questo gruppo Sportivo Insomma Fece scarpore All'inizio Quando arrivò Tutta l'attenzione Che prestavano Su tutte le minime cose No Cioè anche Sul cambio dei materassi Sulle cose Che magari Apparentemente In un'altra La squadra Non facevano caso Ora Pian piano Perché tutti Lo prendevano in giro Poi pian piano Sono i rulli Ricordi No? Quando Il rullo a fine corsa Per disintossicarsi Ma poi si fa a gara Chi ha l'innovazione Più particolare Poi tutti La copiano Di solito Allora Poi c'era gente Che magari facevano I rulli di nascosto Perché Perché Non volevano Farsi Copiare l'idea Ma guarda te Ma guarda te Questi qui Farò i rulli E poi magari Beccavi di nascosto Facendo i rulli Insomma Non vedo se c'è un'innovazione E comunque una cura Come Effettivamente Team Sky Io credo che sia stato Hanno provato a portare Il van Per i ciporti Ricordi Lì già ancora Lì si andava forse Lì eravamo già Lì eravamo già L'anno scorso Quindi siamo già andati avanti Però Il Team Sky Ha dato Delle grandi innovazioni Nel cercare Di andare a guardare Il pelo Nell'uovo Per dire Insomma Ci sono La cosa Dei materassi Per esempio A me mi fece Mi fece Stacore Fra le altre cose C'è un'azienda Che si chiama L'Ergo System Che Fornisce Mi ha incuriosito Questa cosa Perché poi La stanno usando Anche Nibali Aru O sono quelli Della Stana Un'azienda Di Rovereto Fra le altre cose Quindi Italiana E Trentina Che Praticamente Fornisce Dei copri cuscili Per esempio Con dei gusci Proprio Antiallergici Quindi anziché portarsi i materassi E i cuscini Portano le coperture Esatto Con dei tessuti particolari Che riescono Praticamente A Isolare I vari acari Le varie cose Antigeniche Che Girando negli alberghi Puoi trovare I nemici dell'igiene E beh sì Però sai Intanto Sono Sono gusci Sono fodere Personalizzate Che puoi mettere Sul letto E addirittura Anche sul cuscino Perché Se vai a guardare Effettivamente Insomma Tu vai negli alberghi Certo Con tutta la stima Per l'albergo Non è una questione Di fiducia Non fiducia Però Si sa Cambi la federa Del cuscino Però il cuscino Lì sotto C'è uguale Tu puoi essere anche Nel pulito Più pulito Però Effettivamente Se guardiamo poi Nell'igiene E questa Questa azienda L'Allergo System E fra altre cose Produce Visto che insomma Si è interessata Anche nel ciclismo Con molta passione Produce anche I calzini I famosi Oxigo Che insomma Hanno una serie Di calze Anche A compressione Graduate Anche studiate Per fare Recuperare meglio Gli atleti Pensa insomma Come siamo arrivati Avanti E come arriveremo È interessante Ogni tanto Tastare il polso Alle abitudini Attuali Che si hanno In un grande giro Nairo Segunda etapa Di montagna consecutiva Quale seria L'escenario ideale Per te Quale sarebbe Il tuo scenario ideale Ma noi aspettiamo Vedere cosa succede Ci sono molte salite Molto dure E vediamo cosa succede Si può immaginare Una nuova maglia gialla Nel finale Chi pensi Che potrebbe essere Ci sono possibilità Che possa cambiare Il leader C'è tanta gente Vicente De classifica E quindi È più probabile Che il secondo Prenda la maglia Piuttosto che il ventesimo Ma noi Ci stiamo Risparmiamo molto Perché arrivano giornate Molto dure Quindi anche guardare Risparmiare energia È uno dei comportamenti Che seguiamo Sempre molto criptico Molto Molto abbottonato Un aerochitana Concentratissimo Qui siamo sulla testa Della corsa E per parlare di Alfa e Omega Amico Dead Lo stavo per dire In effetti Quando mi hai mandato Il tweet Lo scollinamento Del turmalessi È concluso Con un corridore Che sono sette tappe Riccardo Otto tappe Sette con questa Che soffre Perché nel corso Della prima tappa Nella fattispecie Quindi fino a quando Ce la farò A stare nel tempo massimo Io non mollo E questo è Michael Morcoff Il danese Del team Catiuscia Bravissimo Che è stato l'ultimo A transitare Del turmalè Un po' prima Bennett Che ha avuto Dei danni Un po' meno gravi Complimenti davvero Perché questi sono segnali Credo educativi Oltre che Bei segnali di sport Che ci danno Gli atleti In certi casi E spesso i corridori Per quanto riguarda Il discorso Che faceva Nairino Quintana Sulla maglia gialla Impredicato Credo che ci sia Proprio Adam Yates Che è secondo In classifica generale Ma quello favorito Che lui Naturalmente Si scansa Cioè La domanda Di Laura Meseguet Era normale Che l'andasse a fare A Nairo Quintana Era normale Anche che Nairo Quintana Dicesse Valverde Terzo E quarto In classifica generale Ma Appena Tre secondi Da La Philippe Insomma È normale Cioè Valverde In una volata Ipotetica A Bagnère De Luchon Credo che possa Tranquillamente Andare a cercare Anche gli abboni E E Prendersi Anche la maglia gialla Che Mi farebbe schifo Secondo me A Valverde Però Naturalmente Nairo Quintana Nella Strategia Ormai Mi sembra Sono libri Stampati Quelli della Movistar Ma anche a lui Gli hanno insegnato A come si parla Quindi nulla Trapela Tutti zitti Tutti a tendere Profilo basso Profilo bassissimo E quindi di conseguenza Perché posto che Van Avermaet Si è staccato E quindi Ci sarà un cambio Al vertice Stasera Diciamo che La classifica generale In questo momento Vedrebbe Yates In prima posizione E Valverde In seconda posizione Fra Yates E Valverde Ci sono solo Tre secondi Poi c'è anche Joachim Rodriguez Christopher Fromm Sono tutti lì C'è Rolland Anche che A sette secondi Oggi credo che Nella testa Di tanti corridori Fra Bardet C'è Mollema C'è lo stesso nostro Fabio Aru Sono tutti a pari tempo Insomma L'ultima salita Credo che Per i Surder Macchierà molto Soprattutto nella discesa Perché oggi Si potrebbe vincere La tappa E fare Si potrebbe fare La classica Doppietta Vincere la tappa E prendere La maglia gialla Per alcuni Sono tanti Pretendenti Perché almeno 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 14-15 corridori Potrebbero vincere Potrebbero prendere La maglia gialla Oggi Quindi non credo che Sul per i Surder S'andrà a spasso E naturalmente Tutto questo Per una proiezione Realistica Di tutta la tappa Perché al momento La maglia gialla Vedete Insegue a 6-33 Battistrada E se non fosse Un corridore Che non è adatto Alle montagne Non ce ne fossero Ancora due Di prima categoria Potremmo ipotizzare Ma è assolutamente Fuori discussione Lo dico perché Durante la corsa Non l'avrei mai detto Se non fosse Una realistica Non l'avrei mai detto Quindi Adam Yates Nonostante la Capriola Gli ha fatto bene L'arco L'arco Andar giù Perché Impotenticamente Oggi Potrebbe essere Effettivamente Se dovesse vincere Qualcuno Che è fuori Classifica Ma temo Che sia difficile Perché Oggi arriveranno Il gruppetto De migliori E chi vincerà La volata Se la volata Sarà per la vittoria Credo che Colui che vinca La volata Credo che Prenderà anche La maglia La maglia gialla Allo stesso tempo Perché I distacchi Sono minimi E quello che vedo Con maggior Indiziato È proprio Il compagno Di squadra Di Nairo Quintana Che Sicuramente Cercava di nascondere Ma era come Nascondere La polvere Sotto il tappeto Basta alzarlo E lo becchi subito Tac Un chilometro Alla Trampeno alla montagna Che bella Sta salita Per ora Perché È molto aperta Te guarda Questi lunghi Rettilinei Questi drizzoni Che non finiscono mai Con questo Sole che ti batte Addosso È effettivamente Proprio Il clima ideale Per Farsi Disperare Un bel veglione Nel tritello Nel finale Perché ci potrebbe Stare già Anche oggi Visto che Tanti pensano A domani Sperano Mettano tutti Le mani avanti Ma è anche vero Che Contrariamente Agli ultimi Tour de France Che fino Ai dieci giorni Non succedeva Quasi mai niente In questo Tour de France È comunque Una logica Che Gli organizzatori Sono già diversi anni Che hanno portato avanti Hanno cambiato Un po' No Cioè Sì ci sono state Le volate Per i velocisti Però anche i velocisti Hanno dovuto Fare delle volate Non da velocisti Diciamo così Perché erano arrivi Leggermente In salita E di conseguenza Anche quell'aspetto lì C'è stata proprio Una volata sola In pianura Vera Poi per il resto Che la vinta Cavendish Qui invece c'è una volata In salita Che la vince Pino Prende altri 5 punti Che insomma Dei 25 Lo portano a 30 punti Sempre più leader Maica a 22 punti Ne prende 3 Va a 25 rimane secondo E poi transita Tony Martin Che non è interessato Ha guardato e ha detto Ti ho fatto vincere E la seconda volta Ti faccio vincere Quindi Fai il bravo No Sto scherzando Non è sicuramente Questo che gli ha detto Però visto che Si è voltato Probabilmente Gli aveva fatto Il sorriso Ti ricordi che Le prime tappe Avevo quasi detto Se ci fosse Esteban Sorriso Chavez Il premio Durman Se lo prenderebbe lui Quest'anno In lotta Per il premio Durman E proprio Rafa Maica Perché Rideva sempre All'inizio Del tour Se vi ricordate Con questo sorriso Non voleva dire niente Cioè Un sorriso Da star bene Intanto la montagna Si fa praticamente Vedere che Fa bene A tantissimi A tantissimi sport Si può fare tutto In montagna Dallo sci Ovviamente Anche la bicicletta E continua L'andatura Una delle tappe Monstra di Michelanda L'andatura Fatta Dall'anda Un'andatura Che Ha messo in mostra Da un bel po' Perché Sta andando Quasi Sempre Sul Gran Premio La montagna C'è sempre Questo allungo Che fa sì Che il gruppo Perché Non si può più Definire Diciamolo Il gruppo Dei migliori Il gruppo Di solito Si dice sempre Il gruppo Maglia Gialla Ma il gruppo Maglia Gialla Non c'è Il gruppo Dei migliori Allunga Sempre In prossimità Del Gran Premio La montagna E l'anda Si è fatto Prima il Tourmalet E poi La forchetta Perché viene proprio Da furca Da latino furca E la definiscono Proprio per la forma La morfologia L'orchette D'un saison Eh sì E intanto Steve Morabito Il corridore inquadrato Morabito Che ieri ha dato Una mano a Pinot Che ora è lì Davanti Con Maika E Martin Un metro dalla vetta A quota 1564 Dunque Dovrà dire Dovrà salutare La Maglia Gialla Ha realizzato Comunque Un sogno A questo Tour Greg Van Avermaat Con una eccezionale Vittoria di tappa E soprattutto Andando a conquistare Lui che abbiamo Sempre conosciuto Come uomo Da classiche Non da grandi giri La leadership In una corsa Di tre settimane E poi che corse Al Tour de France Continua il lavoro Del Team Sky Un minuto e 24 Sul trio Che sta guidando La corsa Rafa Maika Tony Martin E Thibaut Pinot Che vedete ora In terza posizione In questo tratto In discesa Scendendo Dall'orchette Dan Cisanne Una trentina di chilometri Esattamente 32 E saranno in cima I corridori Al prossimo Gran Premio della Montagna Gran Premio della Montagna Di prima Categoria Valluron Asee 1580 metri Di altitudine Saranno stati percorsi 148 chilometri Dei 184 In programma Per giungere Al traguardo Di Bagnère De Luchon Questa località Che ha già ospitato In altre 6 occasioni L'arrivo di tappa Del Tour de France La prima occasione Fu nel 1963 Ce ne fu un'altra Nell'80 Amiche d'amici Bentornati Siamo in discesa Dal secondo GPM Dei 4 consecutivi Che caratterizzano L'ottava tappa Del centotresimo Tour de France Siamo sui Pirenei Seconda di tre tappe Pirenai Che è quella che vedete Alla testa della corsa Tony Martin L'eccellente Già pluricampione Del mondo A cronometro Corridore Della Etics Quickstep In sua compagnia Abbiamo Rafa Maika Il campione nazionale polacco Già maledì Già vincitore di tappa Al Tour de France E completa il terzetto Thibaut Pinot Il capitano Della France Cosa succedesse Semplicemente Ci sono delle reazioni Del fisico Che non sempre Si possono prevedere Thibaut Pinot Che è un corridore Grintoso E un corridore Che si arredde facilmente Già questa mattina Diceva Non so cosa sia successo ieri Io continuerò a provare Fino a quando La mia volontà ci sarà Io vi garantisco Che attacco Oggi è andato all'attacco E al momento Conquista la leadership Della Gran Prevo Della montagna Essendo attualmente Primo con 30 punti Che è già un buon risultato È una maglia Che gli sta bene Addosso a Pinot Mi sembra che in passato L'abbia già messa E quindi È già una buona cosa E finalmente Questo è il gruppo Maglia Gialla Vedete Van Averman Vedere finalmente Il ritardo E la Maglia Gialla Come dovrebbe essere Logico Anche come Onore Alla Maglia Gialla Vedete dietro Con qui in questo gruppo Vedete In seconda posizione Silvano Chavanel Con Burghardt Della BMC Vincenzo Nibali Che scorta ovviamente Van Averman C'è anche Vincenzo Nibali Un gruppo Abbastanza Folto Un classico Diciamo così Il retone No? Perché In gergo Quando Nel gruppetto Capitavano I pesci grossi Che era raro No? Cioè Questo Non è un Non è un gruppetto Perché Il gruppetto È quello che si stacca Quello dei velocisti Intanto Doppiano Anche loro Anche la maglia Il gruppetto Della maglia Gialla A 7 minuti 40 secondi Di ritardo Dalla coppia di testa Quindi circa 6 minuti e mezzo Dal gruppo Dei migliori Chi invece Scusa Permetti Sta facendo Molto più fatica E quindi Ci fa piacere Ricordarvelo Michael Morkov O Michael Morkov Il danese Caduto alla prima tappa Che aveva scornillato Il tourmalè Con 23 minuti di ritardo Il suo obiettivo È rimanere nel tempo massimo Quindi Ci fa piacere ricordarvelo E speriamo Insomma Che non arrivi la notizia Che sia ritirato Perché sta facendo davvero Un'enorme fatica Il difficile sarà proprio per lui Questa è la classifica Che appare Del Grapella Montagna Attualmente Con Pinot Con 30 punti Con 5 punti Di differenza La Rafa Maica Tony Martin È entrato in classifica Anche lui Sigara Che era transitato In quarta posizione A 14 punti Scusate E De Gent Che era il tenutario Quello che In questo momento In corsa Veste In segno del primato Della Maglia Pua È in quinta posizione Allora Riccardo Abbiamo sentito prima Le interviste di Nairo Di Nairo Quintana Tu normalmente sai Come si scrive Quintana Quintana Ecco Quintana È un buon motivo Per salutare Tutti gli amici di Ascoli In generale le Marche In generale l'Italia Il mondo Il sistema solare Perché oggi alle 21 Ci sono eventi estivi Naturalmente tradizionali Abbiamo ricordato Che il tour È iniziato il giorno Del Palio di Siena E oggi si corre La Quintana Di Ascoli Che è una bellissima Manifestazione Naturalmente In parte a cavallo E c'è la madrina E pensa che io ho conosciuto Anni fa Quell'anno Ho conosciuto Conosco tuttora È stata Credo che si chiami La madrina Ma chiedo a Liva Fritte Il nostro cronometrista Ascolano Di correggermi Quell'anno fu la madrina Una ragazza Molto bella Naturalmente Come naturalmente Si sceglie una madrina Può fermare A fare merenda Perché oggi è una tappa In cui si scende Da una montagna E si sale Su quella successiva Quindi pianura Praticamente inesistente Sì è proprio Una classica tappa Pirenaica Una tappa Dove Da montagne russe Ora anche davanti Ci si rinfresca E si risparmiano Un po' Di energie Certo quando Arrivi a valle Vedi le montagne Che ti circondano E sai che devi andare Ancora su C'è un bel morale Mancano ancora 52 chilometri La salita finale Quella del Perisurde Che è una salita Abbastanza impegnativa Anche se Non Diciamo così Non eccessivamente dura Però è sempre Un prima categoria E di conseguenza E un prima categoria Sarà anche quella Che affronteranno I corridori Tra poco Sono Due salite Che Una misura Quella che affronteranno Fra pochissimo 10 chilometri E 700 metri Quindi 11 chilometri E con una pendenza Media del 7% Circa Ma diciamo che I primi 3 chilometri La pendenza è molto minima Poi ci sono Delle pendenze Ci sono dei tratti Anche al 9% 10% Quindi Una bella salita Che negli 11 chilometri Potrebbe far male Potrebbe far male Perché poi I corridori affronteranno Il col di Perisurd Che è molto più breve 7 chilometri E 1 E costantemente Sempre più o meno Su quella pendenza Intorno all'8% All'8% Quindi una salita Con un bel dislivello E È la salita Praticamente Che poi Farà da Trampolino Di lancio Per arrivare A Bagnère de Luchon Che è Posto Dove è posto Il traguardo Di questa Tappa Mitica La Pau Bagnère de Luchon Di 184 km La Ottava tappa Di questo Tour de France E qui vediamo Tutto il Team Sky Inquadrato in testa al gruppo Vi ricordiamo A 1,21 Dal terzetto Mentre Romain Sicaro Ormai Da diversi chilometri L'abbiamo anche visto E' stato ripreso Il basco francese Della Direct Energy I tre al comando 1,21 A 51,200 Vedete che il gruppo Dei migliori Come l'abbiamo ribattezzato Anche se poi L'abitudine del Tour E in generale Di attribuire il gruppo Al nome del meglio Piazza di classifica Dovrebbe dire Gruppo Yates Sta di fatto che Gran parte di questo gruppo È composto dagli uomini Sky Perché guardate come si è ridotto Un'andatura Non intesa a fare una scrematura immediata Ma alla lunga A sgretolare Il gruppo Che infatti Perde elementi Se si rimane in meno Poi è più semplice Insomma a battagliare Decisamente E' quello che sta avvenendo Sicuramente Avviene In una tappa Come quella di oggi Stavo cercando di capire Cosa Mi chiedesse La moto È sponsor Dalle barrette energetiche Quella moto Ma credo che sia rimasto Senza Senza Rifornimento Tony Martin Mi hanno detto Però Vedo che le tasche Sono vuote un po' per tutti Perché qui Sai Scendi Approfitti della discesa Per 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 Si scelta Si scelta di mangiare Delle cose A rapida assimilazione Quando Sicuramente Anche Molto digeribili Certo che Quando vai in crisi di fame Anche un panino col salame Ti va bene Perché A volte Succede che Certi corridori Andando in crisi di fame È normale Che Nel sacchetto Di rifornimento Anche I massaggiatori Prevedono Anche il sacchetto Del viaggio Del rifornimento Per la miraglia Quindi C'è il cibo Per Il direttore sportivo Per il meccanico E anche per L'eventuale ospite In questo sacchetto Ovviamente Insomma Si dà Fondo A tutta la Cioè Ora Oggi Poi Hanno Anche Gli chef Dietro Quindi Panini Con trionfi Di cipolline Tonno Il direttore sportivo Insomma A parte che ci sono anche quelli che mangiano le barrette Però Ecco Un direttore sportivo Come Il sottoscritto Pretenderebbe un bel panino Bello farcito Diciamo così Alla buona E E quindi di conseguenza Se un corridore Specialmente Va in crisi E si trova nel Nel gruppetto A volte è capitato anche Che Ci siano venuti All'ammiraglia Ma c'è qualcosa da mangiare Magro Panino col salame Dammelo Dammelo Riccardo La picchia o la Miriam Vuole che tu concluda Il discorso del retone Dopo il break Di Thibaut Pinot La rivalità francese Tutta francese Tra questi due corridori Così diversi Thibaut Pinot Che oggi sta cercando Di fare la sua battaglia personale Stefano Sostiene Perché la conquista Della maglia Della maglia Apua Intanto sta arrivando Una leggenda Se abbiamo tempo Rispondiamo anche a Mauro Mariani Oggi si userà la Compact Oppure normale Con pignoni più alti? Ma io penso Una normale Con pignoni Con rapporti più alti dietro Non ci sono pendenze Che superano il 10% Solitamente la Compact La usano Quando pendenze arrivano Al 12-13% Si usa di più al giro Che al tour Stefano Abbiamo visto Nell'inquadratura Della legge internazionale Chris Froome Mangiare Quanto è importante L'alimentazione Tu lo ricordi sempre Soprattutto in vista Di questa che è la parte Diciamo più impegnativa Dal punto di vista Tattico Per quanto riguarda Gli uomini di classifica Al finale Ti faccio rispondere dopo Vediamo insieme Questo approfondimento Che è dedicato All'uomo di Luchon Che è Thomas Vaucler Che è riuscito A centrare due vittorie A Luchon Nel 2010 E nel 2013 Ci sono delle corse O dei luoghi Dove funziona Una volta E si ha un feeling Particolare Con questo posto Così è accaduto Per me Per Terry Vaucler L'uomo di Luchon Vincitore nel 2010 E nel 2011 Che ha segnato Questo doppietta Nei Pirenei Che non è un Gran Per Ma è stata Una riuscita Particolare Per Thomas Vaucler Che non è stato Un caso Perché in queste due Vittorie Pirenai Che lui Li aveva conquistati In tre settimane Di corsa Quando il gruppo Particolarmente Stanco Aveva lasciato Come dire Più spazio Ai Baruder Quelli che si indicano Per i vincitori Di tappa In Francia Così nel 2010 Arriva in solitario Sul Port de Balesse In due anni Più tardi E ancora solo Alla In cima Al Perisurdo Verso Bagnera de Luchon I colli Pirenaici Meno Meno alti In altitudine Che quelli delle Alpi Sono in assoluto Il terreno Di preferenza Di Thomas Vaucler Che è l'uomo Di Luchon Oggi Fin qui non si è visto Mauro Mariani A proposito Della Compact Con opinioni più alti Stefano Sì Avevo già risposto Con rapporti Sono rapporti Useranno un 39 Dietro una scala 11, 27, 28 Ormai con le 11 velocità Si possono permettere Di avere rapporti Molto alti Che soprattutto Magari in salita intermedia Tendi sempre A salvare la gamba Nel gergo Di tenere rapporti Molto agili Per poi dopo Avere nel momento Clu Quella potenza Per fare l'azione Che ci si va Tantissimo pubblico Davvero sarebbe bello Che gli uomini di classifica Facciano qualcosa Chissà che Alberto Contador O lo stesso Chris Froome O Nairo Quintana Insomma La scuola Sky Non è Come dire Non è consona A offrire grandi spettacoli Dal punto di vista Dell'intrattenimento Del pubblico Abbiamo parlato Di Alberto Contador E del suo futuro Stefano Garzelli Sempre più vicino Alla Prex Gaffredo Andiamo ad ascoltare Questa intervista Di Andrea De Luca Sentiamo Guarda nel ciclismo Qui al Tour de France Per la prima volta Si guarda già il futuro Di questa Trek Segafredo Io sono convinto Che avrà un futuro Meraviglioso Sono convinto Che l'anno prossimo Avremo una squadra Ancora più forte Di quella di quest'anno E per me Oggi è un gran giorno Perché vedevo sempre Le tappe in televisione Sono venuto a vedere Il Tourmalet E ho conosciuto Guarda anche Pulidor Che mi ha dato Anche il suo autografo Quindi sono felice Che è un mito Non solo per i francesi Pulidor Sarà una Trek Segafredo Più italiana Come corridori Sarà sempre internazionale La Trek Perché Nibali Lo sappiamo Si è accasato Da un'altra parte E quindi quest'anno Non penso Che rimarrà internazionale Senza qualche Grosso nome italiano Allora Non lo so Dovete parlare Con Il capo Dobbiamo parlare Con il capo Noi intanto Parliamo con Andrea De Luca Che ci ha raggiunto Qu'impostazione Mentre Tony Martin Abbiamo visto E simpatia Gli sforzi E ammirazione Direi Di Michael Morkov Il danese Caduto la prima giornata Che sta davvero Soffrendo A oltre 20 minuti Dalla testa della corsa E sta cercando Di rimanere Dentro il terpo massimo Questa è la grafica Che ci mostra In maniera intuitiva Il nero Sono le pendenze maggiori Poi si va a scalare Con il rosso E gli altri colori Del Col de Valluronase 1580 metri di altitudine 10 chilometri di salita Penultima salita Di una giornata Che presenta Oltre 4000 metri Di dislivello Riccardo Inizia questa salita Però ti pergherei prima La piccola Miriam Da Triugio Ti chiedeva di concludere Il discorso sul retone Perché poi è arrivato un break E non c'è stato modo Quello famoso Il retone Il retone è praticamente Nel gruppetto Quando Tanto è arrivato Davide Bramati A rifornire Tony Martin Nel gruppetto Praticamente magari Capitava il pesce grosso Ecco perché Essendo il pesce grosso Essendo una rete Nel retone Praticamente Quello è un gruppetto Dal retone Perché di pesci grossi Non ce n'è uno solo C'è la Maglia Gialla C'è la Vincenzo Nibari Chavanel Però non è un vero e proprio retone Quello perché Il retone è proprio il gruppetto Dei velocisti Dove È l'ultima Diciamo così È quello più folto Dove praticamente I corridori Si danno anche una mano Per salvarsi E quindi C'è solidarietà Lì cementi veramente Le amicizie anche Che poi ti rimangono Nell'arco degli anni Qui intanto Le ammiraglie Che seguivano I tre fuggitivi Sono state fermate Perché Il vantaggio È minimo 40 secondi E vediamo Che all'attacco Della salita Anche di questa Gran Premio Della montagna Di prima categoria Anche il gruppo Di Adam Yates Ma ora c'è Greg Il Le Monde Alert Nel corso della diretta A seconda di come va la tappa Uno dei protagonisti di oggi È Thibaut Pinot E sembra che Stia andando molto bene Naturalmente La prestazione di ieri È già tolto Delle ambizioni Per la posizione In classifica generale Sembrerebbe però Che la squadra Abbia deciso Suo direttore sportivo Di lasciare Ogni velleità Di classifica generale Perché tu non mandi Un corridore di classifica In fuga In una tappa del genere Credo che quindi Adesso Sia l'obiettivo Veramente Ad andare a caccia di tappe Magari la maglia può Però voglio dire Che insomma Bisogna ricordarsi Anche dai grandi giri del passato Che quando passi Una brutta giornata Non vuol dire Una brutta giornata Non vuol dire Fare un brutto Tour de France Lui ha avuto Una brutta giornata ieri E oggi invece Il protagonista È della davanti Le parole che ha voluto dare Greg Le Monde Che da queste parti Ricordo dei momenti davvero Epici E straordinari Della sua carriera Dell'avere Bernard Rinault Come compagno di squadra E Gregario Bernard Rinault poi Che si ricorda Di essere uno più forti Della storia E allora gli ridà Lo attacca Perché giorno prima Le Monde Non l'aveva protetto Le Monde che riguadagna Cinque minuti Insomma Erano bei tempi Sicuramente Come sono bei tempi Quelli del ciclismo Sempre L'attualità è sempre Interessante da analizzare Vedete che la Movistar Collabora adesso Col team Sky Che è presente però Che era completo E vedete come pedala bene Questo ci fa piacere Dopo il cappottone Il front spin Letterale di ieri Adam Yates Che in maglia bianca Stava risalendo le posizioni Il gruppo è lui Attualmente la maglia gialla Virtuale Ma per caso non ci sei In classifica generale Adam Yates Era secondo Però comunque Erano le primissime posizioni E casualmente Non ci sei Quello che diceva Greg Le Monde Per Nei confronti di Thibaut Pinot E' chiaro che Thibaut Pinot Era venuto al Tour de France Con altre ambizioni Però a nove minuti E dodici In classifica generale Sicuramente Lui sperava Di recuperare Probabilmente Qualche cosa Con un attacco Del genere Perché Non sono tanto D'accordo Su questa cosa Che ha detto Greg Perché Probabilmente In testa Alla Francais De Geux E in testa Soprattutto A Thibaut Pinot Visto che stava bene Probabilmente Era proprio Una questione di giornata Magari Un malessere di giornata Data probabilmente Da quello che avevamo detto Prima Una cattiva alimentazione Un calo Di Di zuccheri Di zuccheri Nel finale Qualche cosa È successo A Thibaut Pinot Ieri E Probabilmente Oggi Voleva recuperare Il tempo perduto Ieri Sperando Che Sperando Che il gruppo Non reagisse O non tenesse Così Accorto La distanza Che c'è Fra Ieri In fuga E appunto Il gruppo Ma ci sono Troppi interessi Oggi Perché la fuga Andasse in porto Perché L'ho detto prima Ci sono almeno 15 corridori Che potrebbero Indossare La maglia gialla Con un'azione Sul per i surd Lo stesso Fabio Aru Potrebbe anche Tentare In scenare Visto la discesa In finale Di fare un attacco Sul per i surd Ma Valverde Visto e considerato Che sta lavorando La Movistar Mi sembra Il maggiore indiziato Della giornata Perché lui Che comunque La velocità Non l'ha perduta Se c'è un obiettivo Vero Cioè quello Di indossare La maglia gialla Con una vittoria di zappa Credo che Non se lo lascerà Scappare Staremo a vedere Perché già Questa salita Che è il col De Valorose Potrebbe essere Già Una Una scrematura Ci sarà Sicuramente Una scrematura Di questo Folto gruppo E dopo si giocheranno Tutte le carte Sul per i surd E staremo a vedere Un bel finale Di tappa Sicuramente Di questa tappa Pirenaica Corsa Naturalmente come sempre In questi paraggi Con un caldo Asfissiante E Isagirre Ne sta facendo Un pochino Ne sta patendo Un po' I danni Un bel ritmo In questo momento Continua a essere fatto Nel gruppo Dei migliori Vedete Piero Lanna Subito dietro Gli uomini Del Team Sky Della Movistar Vediamo diverse Magliastana Riccardo Sono due o tre I compagni Credo di Fabio Aru Presenti In questo gruppo Dove Mi ha colpito Riccardo La presenza Di Derry Limpei Per esempio In maglia Orica Bike Exchange Che ieri è stato In fuga Ha fatto tanta fatica Ed è ancora Il gruppo dei migliori Attenzione Attenzione Un problema Per From Che gli è scesa La catena Scende Penso che abbia Sbagliato La cambiata No ma non era From E intanto Ecco Appena citato Derry Limpei Giusto perché ti voglio bene Non voglio essere l'unico Ho detto Mi stupisce Derry Limpei Era il corridore Che si stava staccato Proprio in quel momento Dal gruppo Ho detto From Lo sai perché È salvo Perché Questa maglia Abbastanza aperta Davanti Mi ha fatto Pensare From Invece è di dietro Era Poels Che aveva avuto Un problema Di cambiare Classifica generale Virtuale Classifica generale Virtuale In questo momento Con Adam Yates Abbiamo già detto È leader virtuale Della classifica Con Valverde Questa è la classifica Normale Naturalmente Vedete È uscito dalla top 10 Con ritardo attuale Addirittura Van Avermaet Ma non ci stupisce Sono solo proiezioni temporali Che si potevano supporre La classifica Al momento Sarebbe questa Ma sono tutti lì Vedi anche Fabio Aroo Parliamo di 10 secondi A 7 secondi Quindi non basterebbe Nemmeno Cioè non è sicuro Che magari uno vince E poi Magari uno che si piazza Potrebbe anche Prendere la maglia gialla Non si sa Intanto Rafa Maika Continua del suo passo Tony Martin Ha provato a stargli dietro Tipo Pino Visto e considerato Che il gruppo È lì Si è voltato E li ha visti Si è rialzato Mentre Rafa Maika Continua il suo passo Tranquillamente Si rinfresca Ora ci farà anche Un bel sorriso Probabilmente Mentre Questo è Mattias Frank L'elvetico Della M Cycling Che credo che Quella borraccia Non ce l'abbia Per portarla qualcuno Ma per tenersi fresco Naturalmente Quindi evidentemente Si fa fatica Tipo Pino Sta per essere raggiunto 43 km all'arrivo Umberto chiede Al Tour esiste La denominazione Cima Coppisi E la cima De Grange Che onora Uno dei patron storici Del Tour de France E ricordando che Quella che si chiamava Coppa del Mondo Quella che solo Paolo Bettina Ha vinto per tre volte In carriera Si chiamava La Challenge De Grange Colombo Colombo che era Il corrispettivo L'omologo di De Grange Per il Giro d'Italia Che però comprendeva Anche grandi giri Riccardo ai tempi Guarda Poules Per essersi Un attimo Fermato Per mettere a posto La catena Quanto ha perso Segno evidente Che l'andatura Ora non è più Un'andatura classica Conservativa Che era quella Che stavano facendo I Team Sky Quelli del Team Sky Ma la Movistar Ha Implementato La velocità Nel gruppo E tant'è vero Che comunque La fuga poi È stata ripresa Tranne Rafa Maika In questo momento Inquadrato Ma è un'andatura Che comincia A farsi sentire Garain Thomas La maglia Completamente aperta Intanto Tipo Pinot Visto e considerato Che il suo obiettivo Oggi di giornata Era prendere punti Sul Gran Plano La montagna Ci è riuscito Si rialza E ora Cercherà naturalmente Di gestirsi Fino alla fine Ma deve fare attenzione Perché Rafa Maika Non mi sembra Tanto Tanto così Per la maglia Un passo E probabilmente Potrebbe anche Rimanere attaccato Ai primi Con Per dare una mano Giustamente A Alberto Contador Che comunque Ho visto Era in compagnia Di Kreuziger Prima Non sembrava male L'andatura di Contador Anche nei momenti Impegnativi del gruppo Almeno stava lì Sui pedali Come sua abitudine Intanto Daniel Navarro Per decontato Aveva un'altra Vista anche Zaccarin Precedentemente Accusato Sicuramente Daniel Navarro Gli sforzi Tenuti ieri Comunque Questa andatura Sta già Scremando Notevolmente Il gruppo Che tra poco Io credo Rimarrà Con una venticinquina Di corridori Nel gruppo Venticinque Più o meno E lì si comincerà A vedere Chi sarà in grado Di poter poi Andare a vincere la tappa E soprattutto Chi sarà la prossima Maglia gialla Perché di qua Viene fuori Tutto il trucco Intanto Vedete La predominanza Del Team Sky E della Movistar Sono le due squadre Che hanno maggiori uomini Lì davanti E quindi Possono star tranquilli Sia Nairo Quintana Che From Pulse Sta cercando Di fare un rientro Esagerato Per quella Cambiata Fatta male Ha dovuto Spendere Moltissime energie Ma ci sta riuscendo Penso all'andatura Che stavano facendo Veramente Violenta In questa Prima parte Di salita E intanto Vediamo Corridori Che ovviamente Terminano Il proprio lavoro Come vediamo In questo momento Il portoghese Nerson Rivera Mentre prima Abbiamo intervisto Thomas Volcler Che proprio Su queste montagne Conquistò Quella famosa Maglia gialla In maglia di campione Nazionale Francese E qui Andiamo proprio A Thibaut Pinot Invece che dopo Si è staccato Conquistato tanti punti Che io credo Che potrebbero Valergli comunque Perché dubito Che qualcuno Lo supererà La maglia può Adesso soffre E si ha fatto Un bello sforzo Comunque Thibaut Pinot Un corridore Che è piuttosto Strano Comunque Da decifrare Uno che ha Delle grandi Qualità Sicuramente Però a volte Lascia un po' A desiderare Per questi Appunto Per queste Vode Guarda I corridori Come prendono Le bottiglie Dell'acqua Proprio Per buttarsene Addosso Sulla 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 Testa Pulse Intanto Ha fatto Un rientro E rientrato Dopo aver Sistemato La catena Che gli era Andata giù Probabilmente Non ha cambiata E ora Sono gli uomini Della Team Sky A fare L'andatura Con Geraint Thomas In testa Vedete proprio Il caldo E Vuto Il Pulse Che soffre In coda Il gruppo Si intravede Anche il 209 La maglia bianca Di Adam Yates Lo vedete Lui attualmente La maglia gialla Virtuale Sono tutti i corridori In questo momento Che provano A rinfrescarsi A gestirsi Al meglio possibile George Bennett Il corridore Della Lotto Della Lotto Neozelandese Che è arrivato Qui per fare Classifica Per la squadra Dei Paesi Bassi Vedete che Pulse prova Ad accodarsi In questa fase Al gruppo Dei migliori Beh ha fatto Un bel rientro Salvo Pulse Perché Insomma Perdere Perdere tempo Sicuramente Non ha perso Tempo Ma la natura È talmente Alta Che ha impiegato Molto più Del tempo Normale Per rientrare Sotto Ora È lì in coda Respirerà un po' E poi probabilmente Tra poco Andrà davanti A dare Manforte I suoi compagni In squadra Tom Dumoulin Ormai Magari troverà Riccardo Un ritmo gara Perché questa mattina Aveva provato Ad andare in fuga E ora Si Non sta proprio Crollando L'olandese Vediamo Certo Non è con i migliori Però chissà Che Tom Dumoulin Abbiamo detto Senti ciccio Ti abbiamo dato Due possibilità Una Ti si è fatto Beccare Da Aru Così Clamurosamente Al giro d'Italia Hai fatto ridere Pogli Ritorna a fare Il gregario Che è meglio Si fa Per sdrammatizzare Naturalmente Si fa Sdrammatizzare Penso che gli avevano detto così Penso anch'io Intanto che Red Thomas È la testa della corsa Ora è quella che abbiamo visto Perché è stata ripresa La fuga di giornata O quantomeno L'attacco di giornata E c'è sempre Adam Yates Più volte ripreso Proprio perché Oltre che maglia bianca È il leader virtuale Della classifica generale Vedete che bello Riceve Una Dell'acqua Da Carlison Pantano Della M Cycling Che bellezza L'acqua ghiaccia Sulla testa Che bello E guarda come sia Ha sottigliato Il gruppo Davanti Sono rimasti Veramente in pochi Naturalmente Le battute Che ho detto Su Tondumulen Non Sono Battute scherzose Proprio per sdrammatizzare Appunto come si diceva Ovviamente Tondumulen Si sta parlando Un corridore Che ha Fortissimo acronometro E sicuramente Deve grandi qualità E le dimostrerà Intanto La Movistar Che è in odore Di tappa e maglia Comincia a fare il forcing Prima era Nelson Oliveira Che si era Incaricato Di fare l'andatura Ora mi sembra Se dovrebbe essere Dani Moreno Il Isagir Sai che traballa un po' troppo Non riesco Non è Dani Moreno Isagir Tipo Pinot Ha preso Ha preso Una botta di caldo Perché quando ti apri Così Hai Cioè Finché sei rimasto Concentrato Lì davanti E sei concentrato Perché Comunque C'hai l'obiettivo Poi quando Quando Cioè Questa è una tappa dura Ragazzi Non è una tappa Così tanto per fare Quattro montagne Una dopo l'altra Non sarà il mortiloro Sette volte Ma non c'è male neanche qui Anche perché le medie qui Non sarà come Come Bombolino Che è andato Sullo stevio E ha preso una miscola Però Tipo Pinot È su quella falsa riga E saluto Gli amici Mauro E Bombolino Che spesso vanno in bicicletta E di questi caldi Se ne intendono Perché chiaramente Per motivi di lavoro Devono affrontare anche La calura La canicola estiva Intanto Continua Il forcing Da Movistar Con Tutti lì pronti Per l'accelerazione Il Team Sky Si sta avvicinando Alla ruota Di Fromm Anche Fulsang Con Mi sembrava Fabio Aruli davanti E vediamo perché Chiaramente Vorremmo tutti avere Le inquadrature fisse qui Perché pare Qui dovrebbe prima o poi Succedere qualcosa Che potrebbe essere Interessante Succede Intanto Chiserloschi Sta cedendo Perché ora qui Uno a uno Saltano Come Birilli E cominciamo allora A individuarli Riccardo Adam Yates Ha questa posizione In coda Non so se Definirla un po' Di critica Oppure Magari Risente della caduta Anche di ieri Tendam Pantano Maica Roland Proviamo Chiaramente Ho intravisto Troppo veloce Troppo veloce Ti è risalita La moto Però Anche Contrador È un po' troppo dietro E di fatti Ha detto Fammi un po' Andare là davanti Perché mi sembra Che tra poco Con questa andatura Qualcuno potrebbe Anche accelerare C'era anche Bauke Molle Ma della Trek Segafredo Lì Continua adesso L'andatura Intensa Imposta da Isaghiere E della Movistana Sono tanti anche di Astana Perché mi sembra Sono in tre o quattro Vediamo C'è Ricci Porte Come di consueto Con la maglia aperta Isaghiere Continua a fare Questa andatura Che è un'andatura Che fa male Intanto bel primo piano Per Adam Yez Che secondo me Ha questo atteggiamento Lui Corre molto da esperto Sembra un corridore Espertissimo Nonostante la sua Giovanità Sta in coda Però Vedi Sta rimontando Perché si è reso conto Che questa andatura Fra poco Comincerà a fare delle vittime Anche Alberto Contrador Non è proprio avanti È proprio A ruota di TJ Van Garderen E sono rimasti in pochi Non sono E sono sempre meno E ricordiamo che questo è il penultimo Gran premio della montagna Di prima categoria Riccardo Dopo di questo C'è un GPM di prima categoria Intendo Quindi chiaramente Vedete che le tappe In cui si teme Che non succeda granché Alla fine Non può non succedere È un'andatura classica Ma l'abbiamo visto Più volte Questa selezione Naturale Data da questa andatura È un po' Sai Quello che succedeva Anni fa Insomma Quando Merckx Per esempio Faceva Metteva la squadra In testa E piano piano Uno a uno Saltavano poi Per rimanere Quei tre Quattro corridori Importanti Con uno scatto Con un'accelerata Giusta Messa bene Questo si va Si viaggia D'andatura Con Isagir Che sta facendo Un grande lavoro Con Quintana E Valverde Io non riesco A vederlo Perché Ora della Movistar Mi sembravano fossero Un po' di più Cinque uomini Sky Ho contato io Eh ma della Movistar Mi sembravano di più Vedi che Maica Non è così scontato Non si è staccato È rimasto ancora qua Si rifornisce Dall'ammiraglia Gli basta una pedalata Per prendere dieci punti Se sta in questo gruppetto Non credo che qualcuno Lo vada a disturbare Per quello Per quello sai Potrebbe anche Effettivamente Andare a Rimanere Rimanere lì E poi magari Cercare di andare A fare Il punteggio Sul gran piano della montagna Uno scattino Dieci punti La maglia è sua La salita è lunga Ma è a Questa è una notizia Ecco questa Speravamo che non arrivasse Questa notizia Perché vi dicevamo Di Morcov Ci fa piacere anche Averlo accompagnato Virtualmente In questa sofferenza Perché Morcov Ha scollinato il Tourmalet Con 23 minuti di vantaggio Ma Era a rischio Era a rischio Sinceramente Anche di tempo massimo Guarda Poche volte Un ritiro Chiama applausi Come quello che chiamo Quello di Morcov Perché poteva ritirarsi La prima tappa Ha cercato Di tenere duro Il massimo Più possibile Purtroppo Non ce l'ha fatta Eccezionale però Bisogna dire Il danese In questa sofferenza Che non gli ha portato A un risultato tangibile Ma che ha fatto Sicuramente Ha messo in mostra Un danese Davvero Che ha dato Tutto quello che aveva Io non riesco Sai che Valverde Non lo vedo Ma io ipotizzo Che se Valverde Si fosse staccato La telecamera L'avrebbe senz'altro Seguito Questo dice La teoria E il buon ton L'ho visto Ho visto Un numero 12 Non vorrei sbagliarmi Intorno alla decima posizione Va bene Occhio di Falco Io l'ho visto E poi se non è lui No ma Sai Se non vai sopra Con l'elicottero Non riesci a vedere Un bel niente Dall'immagine Da dietro Da davanti Diventa difficile Anche Capire chi ci sono Quintana si vede Perché sta parlando Anche Sta dicendo qualcosa A Isagir Quintana L'abbiamo visto Chiaramente Toccare il microfono Sotto la maglietta Dire qualcosa A Isagir Isagir Rispondere con ok Quindi Non si sa Se gli ha detto Vai più piano Vai più forte Però Qualsiasi cosa gli abbia detto Isagir era d'accordo Ha detto ok Ha detto proprio Vabbè Questa testimonianza Di una grande unione Di squadra Comunque sono una trentina Di corridori Rimasti lì davanti Non di più Intanto vediamo Ecco qui siamo con Frum E Quintana Qui vediamo qualcuno Si vede Kreuziger Van Garten E Val Verde Era lì E lì vicino C'è Daniel Martin Naturalmente Poi vedete le maglie Con Fabio Haru Che è incollato Vedete A Crespo Roma Con due compagni Almeno Uno è Kangert Kangert E Fullsang Contador Contador mi pare Mi pare che faccia Un pochino più di fatica Con Van Garten Con Ricci Porto Uno vicino all'altro C'è Rodriguez Eccolo lì Val Verde Vedi che si Sì No no ma Ce n'è anche un altro Mi sembra che ci sia Anche Dani Moreno Quindi La Movistar È ben messa ancora C'è Kreuziger Insieme A Contador E c'è anche il nostro Damiano Caruso Che con la maglia aperta Ci fa piacere Sottolinearlo Perché Damiano Caruso Sta disputando Proprio un bel tour De Franza Perché dove c'è stata La salita Lui è rimasto lì Con i primi E non è sicuramente Molto facile Perché rimanere A questi livelli Lì davanti Vuol dire avere Una gran gamba E Damiano Caruso Sta dimostrando Di farlo molto bene Il suo lavoro Come Domenico Pozzovivo Che sembrerebbe Rientrato Dalle potenziali crisi C'è Menti E se Riccardo Che sta un po' più Nel cuore del gruppo Anziché dietro Oggi meglio Non lo vedo in coda C'è anche Barghì C'è il capitano Diciamo Della Bora Buchman Buchman Lo svegliamo agli spettatori Perché non parlavamo Perché è partito Un countdown Però poi non è successo niente Allora quando sentiamo 3-2-1 Noi ci asteniamo Dall'esprimerci Poi però Questo era uno scherzo Di Parigi Lo fa 3-2-1-0 Così senza motivo In amicizia Gruppo di testa Lo vedete? L'ho là Sì Sì Ecco lo che arriva Questo L'avevano anticipato E questa è La posizione dove ci troviamo In questo momento Col col del Valle L'Uronasè E poi ci sarà la discesa E poi Per i surde E su per i surde Credo che Cominceremo a contare I noccioli Come dico io Decisamente sì Intanto purtroppo Qualche minuto fa Per chi si fosse collegato Appena adesso Abbiamo assistito Abbiamo dovuto assistere Alla grafica Del primo ritiro del tour Quello di Michael Morkov Danese Il Ticca Tiuscia Che è stato veramente Davvero quasi eroico Oggi nel tentare Di rimanere nel tempo massimo Poi il dolore Ha avuto la meglio Sulla forza di volontà Vedete il Team Sky Ora che prosegue Oggi è una giornata In cui tra Team Sky Per un tratto breve Ma molto intenso La Movistare Ancora il Team Sky Hanno scremato Questo gruppo Che vedete ormai Davvero si contano Team Sky con Frum Vedete Quintana Vedete anche Alejandro Valverde Due Movistar Da qui si vede bene Menties è il corridore Lampre Merida E poi sono Fulsang Cangert E Fabio Aru Che è il corridore più in centro Nel cuore del gruppo Vediamo Poi eccolo qua Il terzo corridore della Movistar Che era andato probabilmente All'ammiraglia Dovrebbe essere Danny Moreno Con Rolla in fondo Kreuziger con Alberto Contador Van Gardenen con Ricci Port Vedete questi sono tutti i corridori Che si notano Bravo anche Damiano Caruso Che è una delle tre maglie Del team BNC Oltre a quella di Port E Van Garderen Per il team Katiuscia Anche lì ci sono gli uomini Che tengono duro Tra questi c'è Jürgen Van Den Broek Che è nel cuore del gruppo Anche lì Ben coperto A occhio 33 corridori Beh ieri erano 33 anni Dalla tua vittoria C'è anche un senso logico In tutto il centro Beh comunque Ben supportati i capitani Da parte dei Diciamo così Dei compagni di squadra Perché bene La Sky Con Anche gli altri Della Movistar Ma anche bene La BMC Che si sta comportando Molto bene Con Ricci Porte Etigen Van Garderen C'è il nostro Damiano Caruso Il nostro Perché è italiano Ovviamente Poi c'è anche Domenico Pozzovivo E soprattutto C'è Fabio Aru Che Insomma Mi sembrava Ben messo Credo che Ora c'è Un po' d'attesa C'è Daniel Martin Anche Che Praticamente Prende in questo momento Da quest'oggi I gradi di capitano Per la classifica Della Etics Qui step Sta facendo però Un po' troppo fatica Chi pedala Con la birra Sul comodino Il sigaro Probabilmente Cubano Ma lui non fuma E lì appoggiato Con le gambe Sulla spalliera Nairo Quintana Perché effettivamente Mi sembra che pedali Proprio Di un'altra categoria Nairo Quintana Intanto Damiano Caruso Si è spostato Per andare a prendere Probabilmente Una borraccia d'acqua Alla Miraglia Abbiamo visto Prendere mano Anche lui Al microfono E comunque Nieve In questo momento Si incarica di fare A questa andatura Questa andatura Non procurerà Se non ci sono Delle accelerazioni Niente di che Ma come vanno Come vanno Le bottiglie d'acqua fresca Oggi su questa salita Che è una meraviglia Perché se la gettano addosso Ovviamente Soltanto Non tanto per bere Ma per gettarsi Certo sai In un gruppetto Della montagna Bopinò A queste attitudine Sono tutti Insieme ai suoi capitani Scena di scena Per una giornata Soltanto del team momento in cui sei lì, devi accelerare e prenderti la prima posizione. Io credo che ora cercherà di scattare, c'è fermento anche Fabio Aro lì davanti allungano, arriva Rafa Maica che va a prendersi E lo dice anche, dice guarda che prendo i punti per la montagna ma Frum non mi riguarda No, e Frum me l'ha detto, senti Rafa intanto ci si passa a noi perché è due ore che ci si fa un mazzo così e te arrivi qui bello bello. Ha provato a dirlo a Frum e Frum appena glielo ha sentito dire ha accelerato e ha detto scusa e tu devi dire a me. Uomini delle squadre in cima a questo colle, che bello questo tornantone per poi iniziare la discesa. Certo hai visto, comunque col terzo posto dovrebbe andare. Prende sei punti con la terza posizione, Rafa Maica va a 31 quindi per un solo punto scavate da tipo Pinosi. Cioè l'avevamo detto non deve per forza vincere ma sei lì. Però però è bella. Frum gli ha voluto dire che dove vai Passerino stai lì. No ma per perché perché credo che ecco la discesa di questa di questo colle è piuttosto insidioso. Ora Rafa Maica va a chiarirsi con Frum. Ha detto scusa mi pazienza io ero lì che dovevo fare le cose. Ma a me ne frega niente dice Frum. Io avevo da fare la mia strada quindi stai lì buono e stai tranquillo fai la tua corsa gli ha detto. E se gli ha detto così glielo ha fatto anche capire evidentemente. Adesso c'è un po' di discesa spettacolare quanto poche altre volte davvero la tappa di oggi. Le immagini di oggi sono una meraviglia assoluta. Il gruppo di testa ora ha qualche chilometro di discesa e poi praticamente qui si ma beh la pianura forse è meno di quella precedente. In valle si passeranno penso un paio di chilometri e poi si riprende a salire. Poi figurati se fa un favore alla Tinkov Frum. Così. Cioè voglio dire c'è l'avversario perché dice no noi non spariamo sulla croce cioè noi rispettiamo i feriti. Allora quello che dice Bresford è funzionale e Bresford lo si sa. Ma sai queste piccole cose fanno parte della corsa e molte volte per motivi anche logici anche no perché i britannici hanno una linearità di pensiero che è incredibile. Loro vanno a diritto come fusi cioè non è che fanno schiettezza che a noi può apparire fastidioso ma è onestà non è sono molto onesti perché ti ricordi cosa ci disse Cavendish nei confronti di chi era? Guardini che voleva far la volata Guardini certo non hai lavorato e quindi te stai lì buono non è giusto. Daniel de Luchon è in fondo alla discesa dopo il Colle de Pérezurda dunque torniamo in una delle salite mitiche perché abbiamo detto ciclisticamente giovane la storia sia dell'Orchède d'Ancizion sia del Colle de Valorona e invece torniamo nel mito del ciclismo nel mito del ciclismo sui Pirenei con il Colle de Pérezurda 33 chilometri alla conclusione di questa tappa è la numero 8 del Tour de France edizione il numero 103 sempre con gli uomini del Team Sky che hanno preso in mano ormai da tanti chilometri la situazione sono stati loro che hanno annullato il tentativo di Maika Pinot e Tony Martin e adesso stanno facendo il ritmo in testa al gruppo gruppo forte di una trentina di unità c'è anche la maglia bianca di Adam Yates lo vedrete adesso in quart'ultima posizione virtualmente è lui il nuovo leader della classifica generale al Tour de France ma attenzione a quello che potrà succedere sul Pire Surda ci fermiamo dunque e andiamo con l'ultima parte della nostra diretta con la Tour all'arrivo amiche ed amici bentornati immagini in diretta dall'ottava tappa del Tour de France quello inquadrato è il gruppo di testa annullati gli attacchi di giornata abbiamo un gruppo di poco più di 30 corridori si parla di 34 uomini in testa con Team Sky a comandare le operazioni tranne un raro intermezzo che comunque non ha cambiato le volversi e le dinamiche della Movistar che ha fatto andatura sostenuta circa 33-34 uomini al comando dove troviamo praticamente tutti i capitani naturalmente la maglia gialla di Greg Van Avermaet non è più presente in testa da poco dopo l'inizio la scesa del Tourmalet e adesso insegue a un ritardo superiore agli 8 minuti il gruppo di testa maglia gialla virtuale da diversi chilometri è Adam Yates abbiamo appena superato il terzo dei 4 GPM di giornata Gran Premio della Montagna in prima categoria dove Mike ha tentato di passare in prima posizione ma gli Sky con Frumi in prima persona hanno detto no evidentemente perché avrebbero preferito una collaborazione anche precedente ma Mike era in fuga sta di fatto che Mike è transitato terzo comunque ha conquistato i punti necessari a fare di lui il nuovo leader provvisorio della classifica del Gran Premio della Montagna e ha buone probabilità di rimanerlo anche fino a fine tappa mancano 30 km all'arrivo e soprattutto è un raro tratto di discesa adesso poi tratto pianeggiante ultima salita discesa e poi traguardo c'è poco da fare si scala una montagna e poi la picchiata verso Bagnier de Luchon beh per i sordi è sicuramente una salita più breve rispetto a quelle precedentemente fatte quest'oggi però la selezione c'è stata una selezione opla una caduta una caduta mi sembra di Bennett Kelderman Kelderman e Bennett tutti e due mi sa che sono finiti a terra no no è caduto Kelderman è stato un po' schivato poi Bennett si è fermato per vedere se guarda come scende immediatamente è sceso al volo per darvi la bicicletta però ma che è successo ah gli è andato via il tubolare questa è la ragione della caduta evidentemente Kelderman riparte subito Bennett si occupa invece di questa operazione gli è andato via il tubolare e Bennett non so se Bennett gli è uscito il tubolare o a a Kelderman però vabbè lo vedremo magari forse in un lo slow più avanti una cosa del genere sarebbe molto grave cioè che esca a tubolare questo vuol dire che c'è qualcosa no però ci può anche stare perché con il grande caldo di oggi ci può anche stare perché sai magari uno fa una frenata un pochino più intensa rispetto il cerchio si scalda ancora di più enormemente ci sono delle temperature molto molto alte e quindi il mastice potrebbe essersi sciolto però sarebbe grave perché comunque il tubolare non si deve scollare ma comunque Kelderman che è l'uomo di classifica aveva stamattina ritardo i 5.57 quindi adesso è praticamente a pochi secondi è quello a cui è andata via la gomma perché Bennett ha più di mezz'ora di ritardo quindi è ragionevole pensare che sia il neozelandese ad essersi fermato per assistere il proprio capitano si era dietro era dietro Bennett era dietro è caduto proprio Kelderman però ripeto se fosse la ragione del tubolare sarebbe sarebbe quanto mai grave si perché insomma se fosse questa possibilità davvero la discesa diventerebbe un rischio eccessivo rispetto a quello che normalmente scendere il Croce Domini io mi ricordo un anno l'anno che stranamente si rammenta spesso anche Silvano Contini quando prese la maglia rosa quel giorno si arrivava a Boario il Croce Domini è una discesa molto impegnativa con anche una bella pendenza in fondo al Croce Domini dalle frenate e dalle dalle sollicitazioni appunto che si creavano sulle ruote la valvola addirittura si spostava mettendo anche in serio pericolo e comunque poteva anche scoppiare il tubolare da un momento all'altro perché spostandosi la valvola poteva succedere succedere anche quello io mi ricordo che siamo arrivati in albergo e ce l'hanno fatta vedere meccanici allora tipo mi dico Diano Paccagnella è dato adesso il momento delle Le Monde Stories perché vi abbiamo detto che queste sono località che portano alla mente tante situazioni della storia in generale del ciclismo e Greg Le Monde si sta rivedendo strade e montagne che l'hanno visto protagonista in tanti modi Super Bannier non tanto Bannier de Lusciol ma poco prima è sempre nei miei ricordi perché è la tappa che mi ha permesso di rientrare in classifica nel tour dell'86 e qui vediamo le immagini d'epoca Riccardo che ci ricordiamo molto bene tu l'avevi già smesso o stavi ancora correndo nell'86 è stata la mia ultima stagione però non c'ero al tour quell'anno io ero stato ripreso a un certo punto però a 20 km all'arrivo sono andato all'attacco con Lucio Herrera e queste sono immagini con un guardate Bernardino arrabbiatissimo in questo momento con un compagno di squadra perché ci fu l'attacco di Le Monde diciamo che Ino doveva essere il gregario quell'anno di Le Monde però poi Ino aveva preso la maglia gialla e si arrabbiò tantissimo perché il giorno prima era stato attaccato lui era stato staccato Ino non lo attese doveva essere il suo gregario e lui era così deluso allora di domani l'ho attaccato ha detto ok tu mi hai attaccato ieri adesso te la ridò io oggi e questo fu l'arrivo di Greg Le Monde che guadagnò 5 minuti quel giorno vedete l'arrivo invece di Bernardino e insomma quello che ho pensato è stato oh my gosh il modo come noi diciamo cavolo per evitare di dire oh mio Dio insomma mamma mia ho guadagnato mi sono ripreso i 5 minuti e dice però se anche non avessi guadagnato i 5 minuti quel giorno anche 3 anche meno l'avrei vinto lo stesso perché andrevo troppo forte quell'anno il tour non mi sarebbe mai sfuggito questo è Greg Le Monde cioè è Bernardino invece con la maglia gialla e poi mi ha dato molte certezze perché io consideravo uno dei migliori corridori di sempre per Bernardino insomma facendo quella taffa quel giorno ho capito che anch'io forse ero uno dei migliori corridori in circolazione sono ricordi di Greg Le Monde di non era Bagnère de Luchon era precedente poi lì si arrivava in salita però erano queste le zone si si su Bagnère intanto rientra con Keldemann con abbastanza facilità dopo la caduta in discesa attenzione non so chi sia il direttore sportivo della IAM ma ha fatto un'operazione per dare la borraccia a Harrison Pantano mi sembrava quantomeno pericoloso intanto in questo tratto di strada i corridori approfittano di andare all'ammiraglia per prendere l'ultime borracce l'ultime varrette gli ultimi zuccheri a pronta presa quelli sono e tra l'altro tra poco noi avremo l'ultimo break pubblicitario tra poco vedremo il Corde per i Sourdes che il Tour de France ha affrontato ben 64 volte dal 1910 c'è una versione francese che ne è data 62 nella versione francese del roadbook ma ci hanno già avvisato è sbagliato è la 64esima volta che si scala il Corde per i Sourdes che tra poco vedremo adesso abbiamo l'ultimo break pubblicitario e poi la 64esima ascesa del Per i Sourdes dai corridori del Tour de France saluto Titti che dalla Francia dal bus della Stana a quel Titti evidentemente ci sta ascoltando Federico Borselli che dice se freni di continuo ci sta con queste temperature e si riferisce appunto alla fuoriuscita ma Titti ha il fresco ha il frigo vicino l'acqua ghiacciata eh no fa una vitaggia anche Titti lo abbracciamo caramente è tutto il personale ovviamente della Stana da Umberto Inservini da Pallini che sono i massaggiatori dei due nostri capitani e fra poco con questa grafica che ci mostra il col di Per i Sourdes un ultimo break pubblicitario per noi fra pochissimo per raccontarvi il Per i Sourdes di nuovo in diretta dalle strade del Tour de France per il gran finale di questa tappa numero 8 il tappone nel cuore dei Pirenei da Poe a Bagnard de Luchon mancano 23 km alla conclusione ed è appena cominciata la salita che ci porta verso il quarto gran premio della montagna di oggi il Col de Per i Sourdes anche questa una delle salite mitiche dei Pirenei è il passaggio numero 65 alla GPM della Col de Per i Sourdes da quando è stato inserito nel percorso della Tour de France vale a dire nel 1910 record di passaggi in testa sul Per i Sourdes 4 volte con Jean Robic e Federico Bahamontes invece le immagini che arrivano le immagini registrate dell'arrivo dell'abbandono scusate del ritiro è venuto alle 16.14 quindi circa una mezz'ora fa di Michael Morkov di cui già vi abbiamo dato notizia tramite Radio Corsa Michael Morkov che cadde nella prima tappa con arrivo a Utah Beach e poi ha convissuto in questa prima settimana con i postumi di quella caduta lottando tutti i giorni per arrivare in tempo massimo oggi una giornata decisamente difficile da superare per il danese che era un'ottima spalla per Alexander Christophe che ne presentava quattro di Garaprile della Montagna un'or category il Tourmalet poi due salite relativamente giovani al grande ciclismo di seconda e prima categoria adesso Col de Perissoud salita che il Tour de France ha affrontato 64 volte dal 1910 ad oggi e la giornata che ci mostra questi panorami spettacolari queste vallate straordinarie tra l'altro il Perissoud è il passo che porta dai Pirenei all'Alta Garonna quindi si rientra verso il cuore della Francia e oggi purtroppo è la giornata che ha fatto registrare il primo ritiro di Tour de France è un record di tutti i tempi mai tutti i corridori avevano preso via dell'ottava tappa ma neanche della settima Morcova tenuto duro e poi si è ritirato ormai diversi minuti fa mancano 22.800 alla conclusione Riccardo allora com'è questa Col du Perissoud visto che è una salita così tradizionale così antica ma è un Perissoud è una salita che sale regolarmente non c'ha differenze di pendenza come parti dall'8% vai su per 7 km sempre più o meno tanto è vero che la pendenza media di questo Colle è di 7,8 per cento come pendenza media quindi ti fa capire che è sempre tutto uguale quindi è macinante probabilmente se i corridori cominceranno a fare delle azioni un pochino più violente come andatura un pochino più accelerata probabilmente rimarranno veramente molto pochi in vetta a questa salita allora Riccardo Wickel Kederman è rientrato dopo il problema al tubolare che lo ha colto in discesa è rientrato il gruppo allora ti vorrei citare Mauro che dice su Twitter al hashtag lo sport ciclismo con i freni a disco non si scalderebbe il cerchio e non ci sarebbero problemi eh sì bravo Mauro e bravo anche Riccardo che mi ha da Pistoia che mi aveva mandato un messaggino privato infatti è uno di quei motivi che fanno sì l'utilità del freno a disco non solo quando piove ma anche quando soprattutto ci sono queste temperature molto molto alte sono cose che non dovrebbero succedere però possono succedere perché chiaramente eh sai l'adesivo il biabino ci sono vari sistemi di incollaggio del tubolare sul cerchio eh probabilmente col caldo così e con le frenate tantissime frenate che poteva aver fatto tendame intanto sollecetato appunto eh Virko Kerdermann può darsi che abbia subito questo 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 scollamento da parte della gomma del tubolare da parte sul sul cerchio se ci fossero stati il sistema del freno a disco questo non sarebbe sicuramente successo problema annoso ancora con questo discorso del freno a disco mentre le aziende comunque in generale tutte le aziende di bicicletta stanno spingendo nelle nuove produzioni del 2017 sono quasi tutte eh anzi tutte le aziende hanno previsto un modello con il freno a disco quindi da parte delle imprese delle aziende della bicicletta c'è molta eh molta attesa e e quindi molta fiducia nell'impianto frenate a disco dovremmo aspettare ancora un po' quando l'U6I o l'U6I come si voglia chiamare l'Unione Internazionale di Ciclismo voglia prendere questa decisione che fra le altre cose era già stata in fase di sperimentazione inserita in alcune corse se non che c'è stata quella caduta che poi io non ho mai creduto che Ventoso avesse subito una ferita dal freno a disco perché ricorderete insomma c'è stata un po' questa questa polemica comunque sono d'accordo con Mauro e con Riccardo sulla visione del freno a disco intanto Team Sky davanti con Fussang invece che si mette davanti a Fabio Aro ricordiamo che sono in due compagnie Fabio Aro abbiamo intravisto prima dall'inquadratura il dorsale di Nairo Quintana ma anche di Alejandro Valverde c'è anche Ioni Zagirre nel gruppo di testa poi guardate che bravo Damiano Caruso a sinistra in maglia BMC a lavorare per Ricci Port e TJ Van Garderen erano 31 abbiamo visto staccarsi Tendam quindi probabilmente sono 30 il corridore al comando tra i quali c'è anche Domenico Pozzovivo abbiamo parlato della Lotto Jumbo e Wilco Kilderman vedete con il tubolare che è uscito lui sta dicendo vedete quanto è pericoloso e non debba succedere ha detto quello che hai detto tu in poche parole non deve succedere perché i tubolari e il ciclismo professionale sono fissati al cerchio immaginate c'è una caduta così in discesa se tu fossi all'attacco è un attimo e ti parte la clavicola quindi ha detto sono d'accordo con Riccardo Magrini no non ha detto così però vabbè siete d'accordo a prescindere siamo d'accordo perché comunque entrambi siete rimasti colpiti da una cosa che non dovrebbe succedere sì ma anche per esperienze ovviamente è normale cioè prima Federico Borselli ci ha scritto che non dovrebbe succedere però può succedere su giornate come quelle di oggi che c'è una temperatura molto molto elevata e se tu magari continui a frenare probabilmente scaldando il cerchio può anche succedere questo ovviamente sono anche d'accordo con gli amici che prediligono il discorso dell'uso del freno a disco è molto molto interessante anche la questione intanto si stanno avvicinando gli uomini della BMC nelle prime posizioni del gruppo sono tutti in attesa di qualche accelerazione intanto è sempre Nieve che sta facendo l'andatura mentre Damiano Caruso e questo è l'attrezzino che sta guardando le camera termica ci sono i motorini infatti loro stanno a fare il controllo Riccardo prima è uscita una grafica che ci dava i componenti di squadra erano tutte uno due tre e poi Team Sky cinque che è la squadra decisamente in vantaggio numerico Rafa Maica non tiene questo ritmo comunque ha conquistato la maglia Sì è quello che voleva fare sento pensa a Thibaut Pinot che si è staccato subito ma d'altronde non aveva più e qui è il momento del forcing del Team Sky mentre Damiano Caruso sta portando Ricci Porte in seconda posizione TJ Van Garderen i tre uomini della BMC lì davanti subito accostati a Chris Fromm con anche Fabio Aruli nelle primissime posizioni intanto si sta staccando Kangert che ha fatto fino ad ora un lavoro di grande copertura è lì attaccato per un pelo intanto Pauls anche si stacca dopo il rientro da quella piccola defaianza che ha avuto con il salto di catena precedentemente questo è una una partenza di una sorta di aeroporto in quota probabilmente per l'Alianti qualcosa del genere forse noi qui siamo in elicottero sicuramente è stata bella la zoomata però in questo momento ci interessa più i corridori che stanno facendo una gran fatica su questa salita ultima di giornata intanto Nieve ancora a fare l'andatura con Geraint Thomas con la maglietta spalancata anche Fulsang dietro con Nairo Quintana che si è piazzato a ruota di From non si vuole sbagliare prova a non perdere contatto vedete non mollano Wouter Poels in questo momento con davanti a si avete visto proprio Damiano Caruso che hanno fatto il lavoro loro due hanno lavorato fin qui per i capitani però Poels credo che se fossi in lui mi rialzerei per risparmiare energie che possono sempre venirmi utili poi utile nel proseguo di questo tour infatti ora si è rialzato ha cambiato mentre Damiano Caruso rimane ancora lì 4 corridori del Team Sky là davanti ma ricordiamo che anche in Movistar ci sono Ionis Aguirre Alejandro Valverde Nairo Quintana con 3 uomini Scusami George Bennett è proprio lì davanti a Damiano Caruso sta andando molto bene sono due gli uomini della Lotto Jumbo ma Bennett era il piano B di classifica neozelandese da non confondere con Sam Bennett l'irlandese che sta soffrendo come ha sofferto Morkov caduto la prima giornata e ora si stacca anche Caruso con Bennett a chiudere il gruppo Buchmann lo vedete col 103 tour per la Borargon e soprattutto il quartetto degli uomini Sky seguito proprio da Nairo Quintana Alejandro Valverde ma c'è ancora Ionis Aguirre io credo che comunque qualcuno faccia lo scatto in faccia del Team Sky e staremo a vedere chi lo fa chi lo farà chi avrà la forza di farlo perché comunque in ogni caso questa andatura da parte di Nieve sta facendo vittime ma non illustri non ci sono cambiamenti violenti di ritmo mancano ancora 4 km ad andare in cima al Paris Sur forse sono un po' troppe ancora per aspettarsi un attacco violento in questo momento la pendenza non è una pendenza durissima però si fa di andatura bene Fulzang con la maglia aperta vedete con la maglia celeste della Stana con Nairo Quintana che ha ruota Valverde subito dietro vediamo che c'è del movimento però sembra un'andatura Riccardo quella del Team Sky fatta per non permettere attacchi ma non per fare la scrematura violenta più che altro per arrivare senza sorprese senza subire attacchi fino in fondo alla tappa di oggi a Valverde non gli parvero questa situazione perché comunque in questa situazione potrebbe effettivamente essere lui che regola tutti in volata intanto si stacca Isagire che aveva fatto un'ottima andatura fino a poco fa uno dei due fratelli Gorka è più vecchio di un anno ma Ion Isagire è il più forte dei due vedete che in questo momento i quattro uomini quattro del Team Sky con Nieve un Geraint Thomas che è monumentale sulle montagne da un paio d'anni che Geraint Thomas sembra un altro rispetto al Pistard di un po' di anni fa quando è considerato poco più che un velocista che teneva bene nelle classiche questo è il gruppo di testa vedete si travede la maglia bianca ancora di Adam Yates che è un altro corridore che corre naturalmente sapete di essere leader virtuale Pantano come Bennett appare in difficoltà e ora torna in ultima posizione dopo essere stato molto più coperto anche Luis Menties della Lampre Merida Menties dovrebbe andare più avanti cioè non va bene quella posizione perché poi quando ti accellerano e ti rimane come fai non ce la fai questo è un bel pascolo di Limousin probabilmente si chiama Altiporto quello che abbiamo visto grazie ad Alberto su Twitter ce ne sono parecchi in Francia il più famoso è a Courchevel che tu per motivi familiari credo conosca bene quindi un Altiporto guarda quanta gente c'è sul Perisurdo eh sì guardate la quantità di camper queste sono persone che sono arrivate ieri hanno pernottato qui ora si gusta una tappa e poi seguono magari molti di loro problemi domani saranno ancora sulle strade intanto risale di qualche posizione ancora Nairo Quintana tiene bene Daniel Martin con la maglia blu e nera della Etics Equistep cominciano a far fatica ora Fulsang è bene oggi con la maglia aperta però rimane lì George Bennett sta staccandosi anche Pantano è lì che cerca di non mollare però è un'andatura che vedi piano piano con questa andatura si staccano una alla volta una alla volta e c'è la selezione quella che si chiama una selezione naturale o schrematura di coda come vedete anche Buchmann in questo momento perde contatto l'altiporto è l'ultimo uomo della Francais De Geux che è diventato l'uomo di classifica appunto della squadra francese ha perso contatto decisamente però anche lui è lì attaccato 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 lo vedete in fondo l'ultimo che si stacca si che perde contatto proprio in questo momento intanto ci danno tieni tieni scusami salvo tieni 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 poi alla fine salti perché non ce la fai più a tenere perché è una macina è praticamente l'esatto qui si spiega il veglione e il tritello perché il tritello tritellava cioè macinava piano piano il grano e quindi di conseguenza il veglione e il tritello questa è l'esatto non è ancora iniziato però piano piano è così ti macina piano piano con questa andatura continua sempre regolare intanto anche Barghie è in difficoltà oggi sta bene Frank Schlein che è lì meglio diciamo dell'ultima apparizione Van den Broek anche lui è lì a tutta ma vedi questa è un'andatura che non cala anche Fulsa anche sembra fare un po' di fatica e ora è tornato un po' indietro è un'andatura che non cala non sta calando per niente continua sempre e ti macina e alla fine eccola qua la spiegazione del veglione e tritello quando io dico oggi veglione e tritello perché piano piano alla fine viene macinato da questa andatura continua che ti lavora proprio sui polmoni sul cuore sul fisico Nieve sta facendo un grandissimo lavoro Nieve Geraint Thomas Enao è subito dietro frull 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 e poi dietro abbiamo un aeroclidale vedete Valverde ma che frullerà io lo credo di no oggi non frullerà ma Riccardo Alberto Cotodoro oggi non ha perso un colpo di pedale è lì a ruota di Fabio Aru vedete Van Gardner riciporte si intravede ancora Fulsa che è un po' più in coda c'è ancora Romain Bardet in questo gruppetto e comunque Adam Yates con la maglia bianca si mantiene in coda questo gruppetto e comunque è sempre quello tenutario in questo momento virtualmente Maglia Gial è partito gli uomini Sky è partito Enao improvvisamente partito Enao Stana Quintana e Valverde Valverde che si lancia per prima l'inseguimento immediatamente con Frum a ruota di Valverde e Quintana a ruota di Frum guarda che bello Daniel Martin segue anche e parte Fabio Aru per andare a riportarsi su quelli là davanti e deve partire Fabio deve partire deve andare subito e approfittare del rallentamento che ci sarà di conseguenza e qui ne fanno le spese barghie vedete Frank Schleck Vandenbroek e Fulsang che si vedeva già però a bocca spalancata Aru ha capito che doveva muoverci non poteva aspettare oltremodo e però aspetta aspetta di fare chiudere il gruppo dal duo della BMC qui si sono staccati Vandenbroek Frank Schleck e Jakob Fulsang e però è strana questa azione guarda Frum ha cambiato completamente atteggiamento anche tattica comportamento tattico ha fatto partire Enao ma vedi che Valverde te l'avevo detto che lui oggi vuole fare il doppio colpo Valverde non ha perso neanche una frazione di secondo si è lanciato subito all'inseguimento di Enao 3, 6, 9 accidenti stavo contando il gruppetto la composizione del gruppetto e comunque Nieve rimane ancora attaccato nonostante il grandissimo lavoro c'è stata un'accelerazione violenta dove Valverde ha reagito immediatamente Barghie sta accusando Tiene duro il Breton ieri ha provato un'accelerazione ma è durata pochissimi metri evidentemente le bastonate che stanno prendendo spesso diversi corridori attesi protagonisti sono sotto gli occhi di tutto e quest'inizio Pirenaico dopo una settimana con questo gran caldo e tanta attenzione perché Valverde Valverde si mette ora sui pedali con Sergio Anan in seconda posizione e qui è una cosa fra uomini una cosa fra capitani Riccardo Ah bello questo Valverde che oggi non vuole perdere l'occasione della doppia vittoria e tappa secondo me guarda Quintana Daniel Martin DJ Van Garderen Ricci Port Mollema Aru qui abbiamo Pulito Rodriguez Kreuziger Contador finalmente questi quadraturi Frullatore è partito il Frullatore Frum con Quintana e Daniel Martin che reagisce bene il mio disgiocer preferito sta cercando di chiudere potrebbe anche farcela non sono pendenze ostiche per fare veramente la grande selezione però che bello che bella salita che belli attacchi che bella corsa che stanno facendo in questo momento i corridori Pozzoviva e Nieve che perdono contatto dopo l'accelerazione di Frum che però non ha non ha staccato i propri avversari Quintana Van Gardner in parte Daniel Martin ora ma Daniel Martin che corridore è che bravo stirlandese perché guarda solo contro tutti ha detto va bene voi avete tutti i vostri gregari io sai che c'è attacco parte Mollema attenzione perché Fabio Aru adesso non ha seguito quest'azione Fabio Aru ha perso qualche metro come anche il gruppetto di Contador è ripartito Enao ma Quintana chiude subito con Frum alla sua ruota questo è già un gruppetto selezionato si stacca anche Rolland ad esempio che dietro Aru lui smenti e stanno provando a chiudere riparte Fabio Aru vedete per chiudere il buco con Roman Bardet che gli va a ruota mentre Contador accusa qualche metro di svantaggio ma c'è la discesa Quintana Martin Van Garderen Mollema e Ricciport sui quali si sta riportando Fabio Aru ma sono tutti lì poi comunque c'è la discesa certo Contador accusa violentemente non è dal corridore che conosciamo perdere questi metri soprattutto sul suo terreno allora vediamo si voltano gli Sky si voltano i Movistar chiaramente un Contador in difficoltà per i suoi avversari va messo a posto prima possibile che Contador è impredicato poi di migliorare le prestazioni è naturale e comunque ha ragione Maika i due leader sono Kreuziger e Kreuziger guarda com'è bello lì nel gruppo di testa perché Kreuziger è andato lì davanti e quindi è una scelta evidentemente quello che noi abbiamo storto un po' il naso perché magari ci fa dispiacere che Contador abbia perso qualche turno però evidentemente la Tinkoff lo sa e qui siamo con Alberto Contador che ha perso Contador ma non molto poco non molto in effetti è intelligente è tenere Kreuziger lì parte Bardet parte Bardet ma tutti dietro guarda Quintana levate la birra dal comodino a Quintana Nairo Quintana in prima persona in segue Roman Bardet arriva anche Chris Froome Van Gardner molto bene riparte Sergio Ma parte Quintana Quintana che anticipa l'attacco di Enau Riccardo che bello questo finale del Perisurde parte Quintana anticipato probabilmente con la coda dell'occhio aveva visto che Enau stava partendo e ha anticipato da buon colombiano da buon conterraneo certo qui siamo su Mentes Yates c'è anche Alejandro Valverde anche Fabio Aro naturalmente questo è Contador che prova a non perdere troppo terreno sì c'è fortunatamente per Contador c'è una discesa che gli permetterà probabilmente di rientrare anche sul davanti bisognerà vedere come affronteranno la discesa discesa di più di 10 km sì intanto Aro è lì c'è Bardet c'è Rodriguez c'è Mollema c'è Van Gardner con Ricciporto un grande Daniel Martin e ora vedete la Sky continua a macinare continua a macinare chilometri in salita il Team Sky provando a stancare gli avversari c'è un Daniel Martin molto brillante che proverà anche discesa probabilmente qui c'è Fabio Aro vedete con Pulito Rodriguez Adam Yates maglia gialla virtuale Luis Menti e se ancora il Team Sky che riprende l'operazione ma c'è un Quintana oggi Riccardo super pimpante te l'ho detto c'era la birra fino a un secondo fa sul comodino era sulla sponda del letto intanto Contador continua a perdere fra le altre cose la folla il pubblico che è meraviglioso stanno tutti vedendo comunque gli impedisce la vista di vedere dove sono effettivamente lì davanti ora Enao guardate Valverde lì a ruota di Fabio Aro pronto ragazzi Valverde che sta con i migliori allo scollinamento Menti e se c'è anche Adam Yates sarà una bella discesa a prescindere da come saranno i passaggi ma loro vogliono praticamente Fromm vuole prenderla davanti vedi farà andare Enao a cercare di doppiare il Gran Premio alla montagna Daniel Martin è pronto per fare un attacco perché Daniel Martin in discesa va anche abbastanza bene E questo è Alberto Contador naturalmente che vuole limitare i danni in vista della discesa che non arriverà tra molto guardate le ali di folla con il Team Sky che vuole chiaramente continuare in un'azione che sta facendo fuori diversi potenziali avversari ma c'è un Nairo Quintana davvero minaccioso a ruota di Chris Froome Quintana non ha per niente paura in discesa ce lo ricordiamo bene Passa Froome primo e ora l'accelerazione di Chris Froome ha inizio discesa addirittura ha detto quello che non ti aspetti Froome che ti scatta in discesa sai che voi dite che io in discesa non vado ve lo faccio vedere io se vado o non vado e attacco di Froome in cima alla Gran Premio della montagna sorpresa e si zetta in discesa lascia un po' di stucco tutti gli altri vediamo con Rolland transitare anche Nieve qui con Bauke Molle ma certo Bauke Molle ma in discesa sarà un po' un po' condizionato Contador cercava una borraccia guarda Froome che attacca in discesa Riccardo quando hai detto Froome ha cambiato modo di affrontare il Tour non pensavo fino a questo punto un Froome che addirittura accelera però ci sono molti rettili ma ora sai c'è Valverde che dice aspetta un attimo Froome ora va bene tutto che tu mi attacchi in saluita sono d'accordo però in discesa ti vengo a prendere e qui il terzetto con Barghie Vandenbrook e Fullsang che scollina in questo momento Paolo Slongo era pieno di borracce ha dato una borraccia a Fullsang vediamo continuo insiste frulla anche in discesa il frullatore Chris Froome davvero un Chris Froome che ci mostra gesti in corsa che sono piuttosto inediti vista la sua carriera questa è Adam Yez ha fatto attaccare il suo compagno di squadra Enao e poi dopo ha rinforzato comunque guardalo lì che meraviglia vedere un corridore che tira fuori nuove armi è sempre un piacere se per arrivare sul traguardo ci sono ancora 3 km di pianura certo ma che bello che bella tappa è venuta fuori oggi a Missy che magari non te l'aspettavi effettivamente c'è stata grande battaglia l'avevamo anche presupposto che sul Perisurde ci fosse battaglia ma però uno che hanno sempre massacrato nel dire non sa andare in bicicletta fa schifo in bicicletta abbiamo abbiamo anche no Zitti pedala anche sulla canna alla tipo aiutami il corridore l'ex campione Moritz Moritz ma te Moritz Moritz ha insegnato a pedalare e allora abbiamo scoperto che questo è il gemello di Froome è andato no questo è un clone è un clone perché non abbiamo mai visto Froome frullare in discesa hanno clonato Froome posso dirvi che mi sta entusiasmando oggi Chris Froome perché ci sorprende dopo tanti anni in cui pensavamo di sapere tutto di lui ci sorprende con una discesa cioè se io vedessi questa immagine mi discesserei Froome non ci crederei se non avessi seguito la corsa bello ma perché il ciclismo è così è bello per questo perché mai che meraviglia oggi dai esci dal triciclo su Chris per favore no spettacolare non devo far vedere a me questo fantastico incredibile guarda Riccardo oggi Froome ci sta regalando e sai perché fa questo qualcosa di inedito perché loro hanno studiato nella galleria del vento e hanno effettivamente visto che in quella posizione schiacciata è molto più aerodinamica ora certo pedalare ma gli viene anche naturale non è bellissimo diciamo come immagino da vedere non è mai stato bello però va va come un treno signori che meraviglia bravo Chris Froome che attacca in discesa allo scollinamento intanto ha fatto 20 punti Pinarello abbiamo scoperto che ha dotato Chris Froome di una bicicletta di una sella invisibile sul telato di una sorta di bicicletta tipo Batmobile che si adatta ai vari terreni ora sta pedalando su un triciclo la Dogma triciclo e quindi non è dato sapere però lui sta pedalando tranquillamente su un triciclo ma che bello comunque vedi questo è il ciclismo perché non ti aspetti l'avevamo un po' anche subodorato perché al giro del finato l'avevamo visto non frullare l'avevamo visto lo ha detto lui stesso io ho cambiato qualcosa ha cambiato e non ce lo dice sicuramente a noi non prima sicuramente ora però Valverde deve andarsela a guadagnare questa maglia esalla perché presumibilmente con gli appunti ma come fa a dare così forte ma guarda che meraviglia ma va perché aerodinamicamente è più aerodinamico certo un attacco in discesa ma questa frequenza è pedalata sul telaio un attacco nella discesa da Fromm non te l'aspetti mai ma sai che Frucco questa azione secondo me guadagna simpatia anche con quelli che non lo possono vedere perché l'essere umano si migliora è andato evolve e Chris Fromm ci ha dato oggi una lezione di come chiunque se vuole può comunque tirare fuori qualcosa di nuovo dalla propria realtà quotidiana anziché ribaltarsi sempre in questa noia di malmostosità 79 all'ora guarda 81 all'ora e guarda le pieghe e guarda le pieghe evidentemente Fromm cioè che a tutti appariva un pollo un pesce fuori d'acqua il calimero della situazione ha trovato giustamente con tanti anni di collaborazione anche con Fausto Pinarello ovviamente ha trovato anche l'assetto giusto in bicicletta a certora Valverde per Valverde diventa difficile e sarebbe utile anche sapere dove si trova Contador perché l'andatura davanti quella imposta da Valverde per andare a rintuzzare su Fromm sicuramente non è calata certo Yates è lì in coda sempre in fondo però col gioco degli abboni è normale che lui debba stare lì non è ancora detto perché poi finirà la discesa No perché Fromm ha 7 secondi di ritardo da Yates poi naturalmente ci sono gli abboni Riccardo io sono assolutamente ammirato dalla voglia di stupire di Chris Fromm dopo aver vinto due Tour de France ha voglia ancora di trovare stimoli e modi nuovi per battere gli avversari ma poi sai cos'è è che lui questa posizione che lui sta pedalando sulla canna evidentemente l'ha provata perché non è che te arrivi qui al Tour e ti metti a pedalare alla Moritz che è antiestetico lui è un antiestetico è un antiestetico per natura ma super produttivo vuole mettere anche questa cosa qua e ho detto bene visto che sono antiestetico mi metto a pedalare tipo triciclo però in realtà c'è Moritz sta rattifando Fromm tutta la vita visto che è lo stesso stile con il quale Moritz si è messo guarda che meraviglia ma la grinta la determinazione la voglia voglio dire anche quasi l'ingenuità di un ragazzo al primo Tour lui che ne ha disputati ne ha 22 e mezzo perché quello di Wiggs diciamo che Fromm lo poteva vincere va bene quello senza dubbio intanto gli tocca fare il lavoro a Valverde gli tocca tirare per Quintana anzi che pensare alla maglia beh no non so nemmeno se riesce a vincere la volata facendo così Daniel Martin gongola intanto sono rimasti veramente in pochi a inseguire Fromm però Fromm sta dando una lezione a tanti corridori ha intervistato aveva detto la discesa ha tanti rettiline l'asfalto è buono non mi spaventa eccolo qua l'aveva detto anche ieri però ieri non c'erano le condizioni comunque sono 13 all'inseguimento di Chris Fromm che sta guadagnando nei confronti appunto di questi 13 non guadagna niente Alejandro Valverde fa specie che posso dire che Fromm è maglia gialla virtuale ormai da diversi medi perché con 7 di ritardo Fromm ha la maglia gialla portata di mano e soprattutto ha portato di mano una tappa vinta in maniera incredibile e io credo che tutti anche i più resti debbano applaudire questo corridore per quello che sta facendo oggi ma è incredibile è incredibile quello che ha fatto Fromm perché poi è scattato cioè ha stravolto tutte le leggi perché anche la anche il fatto Quintana era lì Quintana ha preso una vorraccia non pensa che vada dritto perché lì per lì pensavo ha detto vabbè fai il Grand Prix della Montagna a parte che ha fatto una frullata sul Grand Prix della Montagna che era auspicabile e poi a proseguire è andato 21 secondi ma sta guadagnando notevolmente Chris Fromm su tutti i specialisti della discesa dietro poi non lo prendono più anche perché ragazzi Fromm è un cronome cioè non è che quei 3 km che ci sono di pianura gli facciano gli facciano paura Fromm è veramente ha fatto un'azione ribaltando tutte le cioè ha sorpreso gli avversari perché nessun avversario pensava che Fromm potesse fare un'azione attaccare i discesi vorrei trovare qualcuno che l'abbia ipotizzato l'unica cosa che però cioè insomma dietro in 13 dovevano darsi un pochino più da fare non lasciare soltanto Alejandro Valverde non ora un po' prima sai che mi intenerisce quasi questa foga nel pedalare davvero sembra ingenua da vedersi ma signori sta andando a una velocità che un signor professionista può tenere non chiunque intanto dovrebbe essere rientrato anzi è rientrato in questo momento Schleck dopo molle mandi in discesa mi sembrava mi sembrava molle ma non Schleck allora forse si era staccato precedentemente sì perché Schleck si era staccato però qui c'è Polso Vivo vediamo un po' dove ci porta la telecamera quello è Contador questo è il gruppetto con barghiglie degli staccati sì con Kelderman sì c'è Vandenbroek Kelderman Frank Schleck questo è il gruppetto con Fulsang c'è un gruppetto all'inseguimento il gruppetto Contador questa è la ragione per cui c'è questi guardati ha perso un bel minuto ebbè d'altronde se si è staccato al termine della salita ed eccolo qua Chris Frum che non ti aspetti 3 km 8 alla conclusione sarebbe tappa e maglia per Frum che aveva un ritardo in soli 7 secondi vediamo se dietro si organizzano problemi al cambio problemi al cambio per Rolland forse risolti andiamo eh no problemi al cambio il problema di caduta altro che risolti guarda che ha tutto strappato cosa che prima non aveva evidentemente è caduto in discesa Pier Rolland io stavo guardando il cambio perché gli si era cadricchiata la catena però è caduto evidentemente ma questo Frum ragazzi cattivo poi determinato ha discusso con Maika sul Gran Premio della montagna del Val du Laurent Val Laurent a sé dicendogli ma dove vai ora si è deciso Richie Port allora è un ottimo discesista attenzione e lui Van Gardner guarda che si schiacciano sul telaio e non guadagnano da Frum guarda che è incredibile davvero non guadagnano per forza perché non c'è non è una discesa tecnica se hai preso quello che hai preso è preso però perdono a un certo punto perdono secondi ma perché Frum si è ha saputo attaccare nel momento giusto ha preso quei metri di vantaggio su quelle due tornanti su due tornanti ora 53 11 per il britannico del il keniano bianco qui i segni della caduta e tanto Riccardo come spesso accade il più aggressivo viene dato un po' di consolazione è stato assegnato a Thibaut Pinot insomma intanto accadono queste cose che ci fanno capire che è un premio puramente simbolico che spesso si usa un po' come premio consolatorio anche ieri Anibali è stato dato però a onor del vero insomma ci sono dei corridori che davvero sembra urlino per meritarlo oggi non è una di quelle giornate intanto vedete Chris Froome che prova a guadagnare la cattiveria e la determinazione del keniano bianco sono forse senza uguali oggi forse ci fanno rivedere la caduta di Rollano sì eccola lì no lì non è caduto è caduto precedentemente secondo me lì era il problema che avevi segnalato tu al cambio è caduto prima ma non era quella l'immagine intanto DJ Van Garderen cerca di accelerare ora parte Aru è partito Fabio Aru e vedete come solito Fabio Aru che prova a guadagnare anche egli in pianura beh è la tappa particolare Valverde li va dietro Valverde aveva un'occasione più unica che rara oggi però è stato sorpreso come tutti del resto da Chris Froome ma come fai ad aspettare l'arco di trionfo c'è sempre ecco l'arco c'è sempre ed è tutto bene intanto Chris Froome viaggia verso viaggia verso la vittoria eccoci qua con Chris Froome vediamo l'inseguimento forse è nato lui avrebbe 7 secondi di ritardo di classifica generale quindi con i 10 sicuramente ne guadagna 4 gli bastava arrivare 3 secondi davanti al gruppo per essere nuovo a Maglia Giavo aspetta perché in un chilometro può cambiare tante cose potrebbero organizzarsi ma non mi sembra però dietro non ci sono reazioni che possono far sembrare un ritorno per chi lo insegue ci sono un paio di curve certo quello che ha fatto Froome oggi è stato fantastico e gli altri si sono fatti sorprendere Alfredo cita un detto napoletano lo puoi scrivere anche in dialetto casizza mucca hanno dormito dice Alfredo come si dice a Napoli tutti gli altri ma dormire chi si sarebbe aspettato un attacco ai Froome in discesa alzi la mano io non ci credo quindi Froome è stato bravo bisogna riconoscere i meriti non devi sempre dare i demeriti agli altri ha fatto qualcosa che non ti aspetti ti ha sorpreso e ha fatto una discesa con i controattributi Riccardo è stato bravissimo altro che spinge fino in fondo spinge fino al traguardo Chris Froome riconosciamo davvero un po' di meriti a quest'uomo come a tutti quelli che conquistano qualcosa di grande signori giù il cappello Chris Froome ha sorpreso tutti 5 ore di corsa ha alzato le braccia dopo il traguardo Bardet con Daniel Martin che vince davanti a Rodriguez Bardet poi arriva Kreuziger con Aru bene comunque il nostro Fabio ora dobbiamo vedere quanto perde a qui c'è stata una caduta mi sa o una furatura di Ienao mi sembra che o semplicemente magari ha mollato no 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 credi che sia caduta no no una furatura sicuro stava sbandando dietro con la ruota sta arrivando Barghì con il gruppo Contador che perde un bel turno anche oggi e anche oggi io credo che oggi sia stata una scelta logica quella di non aspettare Contador per Kreuziger intanto traglia il traguardo anche uno straordinario ecco perché ruota a terra Riccardo credo che sia anche comprensibile oggi che Kreuziger non abbia spettato Contador se è in classifica Contador si sta Canet e N1 oggi si non è sbagliato oggi che Kreuziger non si sia fermato no no oggi non ha sbagliato niente Kreuziger se ha le gambe deve starla davanti che vuol dire arriva il gruppetto di Contador con un bel ritardo certo una tappa nel finale è stata veramente stradominata da parte degli uomini del Team Sky è stravolta soprattutto nella conduzione logico tattica di Chris Froome che nessuno mai sarebbe aspettato un attacco in discesa colui che lo hanno definito lo sgraziato uno che non sa andare in bicicletta ma dico se anche oggi dopo quello che ha fatto Froome ci mettiamo a lamentarsi per il suo stile allora andiamo tutti a casa perché Froome oggi ha fatto una cosa che è solo un corridore con i controattributi e tu capisci bene la voglia che avrei di dire la frase giusta ma mi mantengo perché abbiamo dei ragazzi anche quando parli tu e quindi evitiamo bisogna dimostrare che ci si sa controllare anche quando prudono le mani 13 secondi 13 secondi il vantaggio di Froome che nel finale ovviamente con quelle curve ha perso qualcosina ma soprattutto perché si sono messi a tirare anche gli uomini della BMC dietro guarda la felicità tutti in discesa insomma yes questa è la la voglia e la la grinta e soprattutto la soddisfazione qua ci fanno rivedere dall'alto la bella volata di Pulito Rodriguez ritrovato perché Pulito Rodriguez sta pedalando cresce cresce per le Alpi siamo alla prima settimana domani si va ad Andorra e Pulito Rodriguez sta bene noi siamo partiti lo scorso sabato è una settimana esatta il tour finisce fra due settimane ancora e già oggi e ieri abbiamo visto qualcosa di molto interessato è molto bene Fabio Aro vedete arriva con i migliori Daniel Martin invece un Daniel Martin strepitoso Pulito Rodriguez va a prenderci quattro secondi Pagoro arriva a sesto e va bene così anche per il gioco dei piazzamenti dovrebbe saltare in classifica generale di uno un paio di posizioni quindi questo sono le terme a me davvero è piaciuto tantissimo la caparbietà e la voglia di stupire no ma è stata bella anche l'azione perché comunque Valverde secondo me non lo valutava questo questa cosa non l'hanno valutata perché perché gli ha sorpresi è stato bravo è questo il grande merito batterti sul tuo terreno tutti dicevano oggi Froome sarà attaccato in discesa ha attaccato lui e domani e vorrei citare un amico perché lo considero anche se non lo vedo da anni un amico un grande corridore che in quella tappa che abbiamo ricordato vinta in cui Taffi arrivò secondo arrivò terzo ed era l'esordio d'altura e Fabio Sacchi che ci interviene e ci dice e domani arriveranno le miscele sei d'accordo? beh le miscele sono arrivate anche oggi per quello domani quelle pesanti però quelle di cognome importante probabilmente ma io oggi ho assistito una bella tappa una tappa fatta su misura per i protagonisti di questo tour ma la cosa inaspettata è quella che è entusiasmante quella dell'attacco di Froome in cima sul Perisurde e l'attacco in discesa con quella posizione anche strana schiacciata tanto vituperata anche da parte mia perché che frequenza di pedalata teneva Froome in discesa? sì ma lui aveva 53-11 oltretutto quindi grande grande qui Bardet rischia la scivolata però poi grande prontezza di Romain Bardet che voleva andare a prendersi gli abboni probabilmente però un Bardet pimpante però Rodriguez domani si va in Spagna Riccardo e Rodriguez sta sempre meglio comunque prende il terzo posto del podio Pulito Rodriguez con anche degli abboni che gli valgono sicuramente un salto in classifica migliore la classifica è completamente stravolta e cambiata in una sola giornata con un Chris Froome fantastico perché ha fatto una cosa soprattutto in aspetto la fantasia questo è la fantasia ma è proprio questo molte volte si dice no scientifici loro sono una squadra scientifica una squadra che ragiona troppo calcolatore guarda solo il computer e poi si butta in una discesa la fantasia oggi ha vinto perché si fa fatica a riconoscere i meriti a gente che magari non ci sta simpatica o non fa quello di solito attacchi in salita oggi è stata diversa ho pensato non era previsto però ho pensato sono qui perché non provare quando ero su stavo bene ero lì davanti ho detto fai provare vediamo che succede infatti è sorpreso anche lui mi sembrava di essere un corridore antico di vecchia scuola non è ciclismo è solo divertimento quello che secondo me sta dalla discesa è stata una giornata molto dura certo non ho guadagnato tantissimo però io credo che ogni secondo guadagnato al tour sia positivo anche la maglia per te è molto positiva ma non credo di aver guadagnato abbastanza di essere andato in maglia ma io credo che lui non abbia fatto i conti bene grazie a tutti grazie a tutti no ma ha dato 13 secondi a tutti ha preso la buono ma come può non essere in maglia scusi certo la domanda forse lo ha lasciato un po' deciso perché lui dice non so perché lui sapeva di avere 5.57 dalla maglia gialla ma non sapeva che la maglia gialla era 20 minuti e questa è la ragione per probabilmente sì questo è il motivo cioè questo ci dà anche Valverde Valverde è arrivato dietro grandissimo grandissimo davvero e credo che da oggi Riccardo possiamo mettere una bella spartiacque perché chi questa sera avrà qualcosa da ridire su questo corridore sulla tappa di oggi si presenterà da solo perché uno che fa una cosa del genere il signore ci ricorda per anni fra dieci anni ti diremo ricordi Froome quell'anno quando attaccò in discesa non credi che sia un momento unico primo e inedito guarda non ci credeva neanche lui e l'incredulità di Froome ci fa capire che è stato proprio un gesto istintivo del momento la fantasia quello che a volte noi chiediamo ai corridori la fantasia il coraggio aveva provato anche Fabio Arun nel tratto in pianura però Fabio è qua molto gli servirà molto di esperienza però l'importante è che fosse lì certo in salita quando c'è stato quell'attacco di Enao e di Quintana insomma aveva perso un po' qualche colpo però intanto il solito rullo disintossicante da parte di Chris Froome con tutto il suo staff lì a guarda com'è contento è contento come un bimbo al Luna Park con Braceford cioè lui ha fatto una cosa a parer mio molto bella proprio perché ha stravolto l'ha preso di sorpresa è stato fantasioso oggi ha vinto con la fantasia come l'ha detto anche nell'intervista era divertente si è divertito si è divertito a prenderli in giro praticamente cari cari Brody gli ha detto a tutti i detrattori vi faccio vedere chi va mi segreto ha fatto qualcosa di davvero imprevedibile è il sorriso spontaneo di questo ragazzo perché sembra che Froome sia insensibile a qualsiasi cosa è un ragazzo che lavora duro io ti saluto caro ragazzo e domani si va ad Andorra Riccardo a stamagnana ciao ciao ragazzi grazie Riccardo Bagrini classifica generale adesso ed eccola qui la nuova classifica generale Chris Froome ha un vantaggio di 16 secondi su Adam Yates frutto dei 13 secondi più la buona Pulito Rodriguez a 16 secondi attenzione domani Rodriguez ha dato segnali e in Spagna proverà ad Andorra Martin Valverde Quintana Fabio Haru tutti in pochi secondi vedete 23 secondi Van Gardner a 23 Bardet e Molle ma tutti nel gruppo di testa oggi naturalmente questi corridori di testa oggi e Molle di testa oggi non sono ma tutti nel gruppo di testa oggi e Molle di testa oggi di testa oggi un po' di testa oggi di testa oggi